L'orrore di Dunwich, di Howard Philip Lovecraft. Letto dall'avido alchimista. Se vi piace quest'opera e il modo in cui la leggo, vi invito a lasciare un mi piace, commentare, condividere il video e, se volete, potete aiutarmi ai link in descrizione oppure a soldarmi per una lettura su commissione. Grazie. Buon ascolto. Il viaggiatore che nel Massachusetts centro-settentrionale imbocchi il bivio sbagliato al raccordo del picco Dalesbury, appena oltre Dean's Corner, si trova ben presto in una regione strana e solitaria. Il terreno sale e le pareti di roccia fitte di ruovi incombono sempre più sulla carreggiata della strada tortuosa e polverosa. Gli alberi dei boschi circostanti sembrano troppo grandi e la sterpaglia, i pruni e le erbacce crescono con un rigoglio insolito per una regione abitata. Per contrasto, i pochi campi coltivati appaiono singolarmente brulli, mentre le fattorie sparse qua e là presentano un sorprendente e uniforme aspetto di decrepitezza, desolazione e decadenza. Senza sapere perché, si esita a chiedere informazioni alle figure solitarie e deformi che si intravedono talora sugli usci cadenti e sui pendii disseminati di rocce. Quelle figure sono tanto silenziose e furtive che destano una sensazione di vicinanza a cose proibite con cui sarebbe meglio non aver nulla a che fare. Quando la strada si inerpica su un'altura consentendo un colpo d'occhio sui monti che sovrastano i boschi, l'impressione di inspiegabile disagio si fa più intensa. Le cime sono troppo rotonde e simmetriche per suggerire quel senso di pace e tranquillità tipico dei monti. E talvolta si delineano contro il cielo con particolare nitidezza i bizzarri cerchi di alte colonne di pietra che ne incoronano la sommità. Gole e precipizi di inquietante profondità scandiscono il percorso della strada e i rozzi ponti di legno che li attraversano sembrano sempre tutt'altro che solidi. Quando la strada scende di nuovo si vedono zone paludose che dispiacciono istintivamente e incutono paura di sera quando ciarlano invisibili caprimulghi e sciami abnormi di luciole danzano al ritmo rauco insistente stridente del gracidio delle rane toro. Il nastro sottile del miscatonice superiore somiglia stranamente a un serpente che si torce ai piedi delle colline tondeggianti da cui nasce. Quando le colline si fanno più vicine impressionano più i loro pendii boscosi che le sommità incoronate di pietra. Quei versanti appaiono così cupi e ripidi che si preferirebbe fossero più lontani ma non c'è un'altra strada per evitarli. Attraversato un ponte coperto si scorge un piccolo villaggio ragomitolato fra l'ansa del fiume e la parete verticale del Round Mountain. E ci si meraviglia dell'agglomerato dei tetti cadenti a doppia spiovenza, muta testimonianza di un'architettura più antica di quella comune della regione. Inquieta notare a distanza ravvicinata che la maggior parte delle case è deserta e in rovina e che la chiesa dalle guglie crollate accoglie l'unico sciatto centro commerciale del paese. Si ha paura ad attraversare il tenebroso tunnel del ponte eppure non si può farne a meno. Una volta dall'altra parte è difficile non avvertire subito un sottile lezzo malsano nelle viuzze del villaggio come di muffa e di sfacelo secolari. È sempre un sollievo allontanarsi da un posto simile. Basta seguire la stradiciuola che costeggia le pendici delle alture e attraversa la successiva piatta pianura sino a ricongiungersi alla statale e allo snodo di Aylesbury. In seguito talvolta si viene a sapere d'essere passati per Dunwich. I forestieri si recano a Dunwich il meno possibile e da quando vi sono accaduti certi fatti raccapriccianti tutti i cartelli stradali sono stati tolti. Il paesaggio secondo un normale criterio estetico è insolitamente bello. Eppure non vi è afflusso di artisti né di turisti estivi. Due secoli fa, quando non si ironizzava sul culto delle streghe l'adorazione di Satana e le presenze misteriose nei boschi, era comprensibile che sussistessero buoni motivi per evitare il posto. Nella nostra smaliziata era, poiché l'orrore di Dunwich del 1928 fu messo a tacere da coloro che avevano a cuore il benessere del villaggio e del mondo, la gente lo sfugge senza sapere perché. Forse un motivo, sebbene non sia valido per i forestieri non informati, è che gli abitanti del villaggio hanno raggiunto uno stadio di decadenza repellente, avendo percorso a ritroso i sentieri dell'evoluzione in maniera molto più accentuata dai nativi di alti soborghi isolati del New England. Ormai formano una razza a sé stante, con ben definite stigmate di degenerazione e regressione. La media della loro intelligenza è penosamente bassa, mentre le cronache del paese pullulano di episodi di depravazione, incesto, assassinio, violenze e perversioni irriferibili. La vecchia nobiltà, rappresentata da due o tre famiglie di possidenti terrieri trasferitesi qui nel 1692, provenienti da Salem, si è mantenuta in qualche modo al di sopra del livello generale di decadenza. Ma alcuni rami sono caduti tanto in basso e si sono confusi a tal punto con la sordida plebaglia che ormai soltanto il loro nome, testimonia alla nobile origine che questa gente ha disonorato. Qualche Wathley o Bishop manda ancora i suoi rampogli ad Harvard e alla Miskatonic University, sebbene quei giovani ritornino raramente ai tetti cadenti ad Abbaino sotto i quali sono nati. Nessuno, neppure chi ha conoscenza degli ultimi orrori, saprebbe dire con esattezza cosa non va a Dunwich. Ma le vecchie leggende parlano di empi riti e di segrete riunioni di indiani, durante le quali venivano evocate misteriose forme d'ombra dalle grandi colline a cupola e venivano recitate barbare suppliche e orgiastiche cui rispondevano sonori schianti e rimbombi da sottoterra. Nel 1747, il reverendo Abaya Hodley, appena giunto alla chiesa congregazionalista del villaggio di Dunwich, tenne un memorabile sermone sulla vicina presenza di Satana e dei suoi accoliti, in cui disse tra l'altro Sa ad ammettere che codeste impietà di un'infernale schiera di demoni sono questioni troppo universalmente note per essere negate. Le voci dannate di Azazel e Busrael e Belial, essendo state udite provenire da sottoterra da innumerevoli testimoni fededegni ed ognor viventi. Lo stesso, non più tardi di quindici giorni addietro, cogliea un distinto a ragionare dei poteri maligni. E la collina dietro la mia casa, laddove vaveano crepitì, rimbombi, lamentazioni, urla e sibili che niente cosa della terra potea generare. Per cui dovean di necessità sortire da quelle infere cavità che solo la magia nera puote discoprire e solo il demonio a schiudere. Il signor Hodley scomparve poco tempo dopo aver tenuto questo sermone e il testo stampato a Springfield esiste ancora. Di anno in anno si continuò a parlare di rumori nelle colline che ancora oggi sconcertano geologi ed esperti di geografia fisica. Altre leggende narrano di lezzi spaventosi nei pressi di cerchi di pietra che incoronano le colline e di presenze immateriali che fluttuano velocemente nell'aria e che potevano essere udite debolmente, a certe ore, in determinati punti nel fondo di forre profonde. Altre ancora cercano di spiegare l'origine di Devil's Hope Yard, un pendio brullo e inaredito dove non cresce un albero, un cespuglio né un filo d'erba. E, ancora, i nativi hanno un sacro terrore dei numerosi capri mulchi che intensificano il loro canto nelle calde notti estive. Si crede fermamente che questi uccelli psicopompi restino in attesa delle anime dei moribondi e che modulino il loro misterioso canto sul respiro affannoso della persona che sta lottando con la morte. Se riescono ad acchiappare l'anima che vola via quando lascia il corpo, essi si allontanano istantaneamente con un verso che ricorda una risata demoniaca. Se invece non ci riescono, si quietano gradatamente fino a diventare silenziosi per la delusione. Queste credenze sono naturalmente antiquate e ridicole, ed il resto provengono da tempi assai remoti, perché Danwich è terribilmente vecchio, molto più antico di qualunque altro villaggio nel raggio di 30 miglia. A sud del paese si possono ancora scorgere le pareti della cantina e il focolare della vecchia casa Bishop, costruita prima del 1700, mentre le rovine del mulino sulle cascate, costruito nel 1806, costituiscono l'esempio architettonico più moderno dell'intero soborgo. Qui l'industria non attecchì e lo sviluppo industriale del XIX secolo si dimostrò di breve durata. Ma più antichi di ogni altra cosa sono i grandi anelli di colonne di pietra rozzamente sbozzate sulla cima delle colline, che peraltro vengono generalmente attribuiti agli indiani piuttosto che ai colonizzatori. Depositi di teschi e ossa rinvenuti all'interno di questi anelli e nei pressi del grande masso a forma di altare sulla sommità di Sentinel Hill alimentano la credenza popolare che tali luoghi fossero un tempo cimiteri dei Pokumtuk, mentre molti etnologi, non rendendosi conto dell'assurdità della loro teoria, insistono nel ritenerle rovine caucasiche. Fu nel territorio di Dunwich, in una grande fattoria parzialmente disabitata e costruita a ridosso del fianco di un colle, a quattro miglia dal villaggio e a un miglio e mezzo dall'abitazione più vicina, che Wilbur Watley nacque alle 5 del mattino di domenica 2 febbraio 1913. Si ricorda la data perché era la festa della Candelora, ricorrenza che quelli di Dunwich celebrano stranamente sotto un altro nome. E perché erano risonati gli strani rumori sulle colline e tutti i cani della zona avevano abbaiato insistentemente durante l'intera notte. Meno degno di nota parve il fatto che la madre appartenesse al ramo decaduto dei Watley. Era una donna di 35 anni, albina e macilenta, poco attraente, che viveva con il vecchio padre quasi pazzo. Sul conto di quest'uomo e all'epoca della sua giovinezza erano circolate le più spaventose storie di stregoneria. La vigna Watley. Non era sposata ma, secondo l'usanza della regione, non si diede pena di far riconoscere il figlio e lasciò che la gente del posto facesse le congetture che voleva sulla paternità del bimbo, cosa che puntualmente accadde. Sembrava al contrario singolarmente fiera del pargolo dalla carnagione scura e dall'aspetto caprino, che tanto contrastavano con il suo albinismo e i suoi occhi rosati, e fu dita a borbottare curiose profezie sul portentoso futuro e gli insoliti poteri del figlio. La vigna era tipo da dir simili cose, essendo una creatura solitaria, dedita a vagabondaggi sulle colline durante i temporali, e che si sforzava di leggere i grandi volumi odorosi che suo padre aveva ereditato da due secoli di generazioni dei Watley. Quei libri ormai si sbriciolavano a causa dell'età e dei tarli. Non era mai andata a scuola, ma il vecchio Watley l'aveva imbottita di farraginose e sconnesse nozioni ricavate da antiche tradizioni. La loro remota fattoria era sempre stata temuta per via della reputazione del vecchio, che si diceva fosse dedito alla magia nera. Inoltre, l'inspiegabile morte violenta della signora Watley, quando la vigna aveva 12 anni, non aveva certo contribuito a rendere popolare il posto. Isolata fra misteriose influenze, la vigna amava abbandonarsi a sogni sfrenati e selvaggi e si dedicava a singolari occupazioni. Nelle faccende domestiche le rubavano molto tempo, in una casa dove ogni regola d'ordine e pulizia era scomparsa da lungo tempo. La notte in cui Wilbur nacque si udì un urlo terrificante, che sovrastò perfino i rumori sulle colline e l'abbaiare dei cani, ma, a quanto si sa, né un medico né una levatrice assistettero al parto. E i vicini non seppero nulla del bambino fino a una settimana dopo, quando il vecchio Watley raggiunse con la slitta l'innevato villaggio di Dunwich e ne parlò confusamente con gli sfaccendati che stavano in permanenza nello spaccio di Osborne. Pareva che nel vecchio fosse sopravvenuto un cambiamento, un'ulteriore sfumatura sinistra nella sua mente annebbiata che, solitamente, lo trasformava da oggetto di paura in vittima della paura, anche se non era certo il tipo da lasciarsi turbare da comuni eventi familiari. Nonostante la paura dimostrò anche egli quella specie di orgoglio che in seguito apparve palese nella figlia, e molti di coloro che lo ascoltavano avrebbero ricordato anni dopo ciò che disse a proposito della paternità del bambino. Non mi frega di ciò che pensa la gente. Se il mocioso di Lavinia somiglierà, suo padre sarà tutto diverso da come ve l'immaginate. Non c'è mica solo la gente di queste parti. E poi, Lavinia ha letto e visto cose che neanche vi sognate. Suo marito è in gamba, è il migliore che si può trovare da questa parte di Osborne. Se sapete quello che so io delle colline, non mi verreste a domandare perché non si sono sposati in una chiesa migliore e perché l'erede non è nato com'è. Vi dico una cosa. Un giorno sentirete il mocioso di Lavinia chiamare il nome di suo padre sulla Sentinel Hill. Le uniche persone che videro Wilbur nel primo mese di vita furono il vecchio Zachariah Watley, del ramo non decaduto, e la moglie illegittima di Earl Sawyer, Mami Bishop. La visita di Mami fu dettata francamente dalla curiosità, e ciò che disse in seguito fu di carattere con il suo spirito, ma Zachariah ci andò per consegnare due vacche Alderney che il vecchio Watley aveva comperato da suo figlio Curtis. Ciò segnò l'inizio di una lunga serie di acquisti di bestiame, da parte della famiglia del piccolo Wilbur, che ebbe termine soltanto nel 1928, quando l'orrore di Dunwich venne e se ne andò. Eppure pareva che la sgangherata stalla dei Watley fosse sempre semivuota. Ci fu un periodo in cui la gente, spinta dalla curiosità, andava a nascondersi nei paraggi, contando i capi che pascolavano precariamente sull'erto pendio della collina, dove era abbarbicata la fattoria. E nessuno riuscì mai a vedere più di dieci o dodici anemici animali. Evidentemente qualche influsso nocivo, il cimurro provocato dal pascolo malsano, forse i funghi e i legni infetti della stalla erano la causa di un'alta mortalità fra le bestie dei Watley. Strane ferite o piaghe che ricordavano vagamente delle incisioni sembravano affliggere i capi visibili e in un paio di occasioni, nei primi mesi, alcuni visitatori credettero di scorgere piaghe simili sulla gola del vecchio dalla grigia barba incolta e della sudicia albina dai capelli ricci. In primavera, la vigna riprese le sue scorribande abituali sulle colline, stringendo fra le braccia sproporzionate il bambino dalla carnagione scura. La curiosità della gente per i Watley andò sciamando dopo che molti contadini ebbero visto il bimbo e nessuno parve far caso alla rapidità con cui cresceva quasi a vista d'occhio. In effetti lo sviluppo di Wilbur era fenomenale perché a soli tre mesi aveva già raggiunto le dimensioni e una forza che solitamente non si riscontrano nei bambini al di sotto di un anno. I gesti e perfino i primi tentativi di parlare rivelavano un controllo e una consapevolezza inusuali in un neonato e nessuno si stupì veramente quando a sette mesi cominciò a camminare da solo con passi vacillanti che un altro mese bastò a rendere sicuri. Qualche tempo dopo, la vigilia di ogni santi, un grande bagliore fu visto a mezzanotte sulla sommità di Silent Hill dove l'antica pietra simile ad un altare si erge in mezzo al tumulo d'antiche ossa e la gente dei dintorni fece un gran parlare quando Silas Bishop, del ramo non decaduto dei Bishop, disse di aver visto il bambino correre risolutamente su per la collina seguito dalla madre circa un'ora prima che si notasse la vampata. Silas stava cercando una giovenca smarrita ma quasi se ne dimenticò quando intravvide di sfuggita le due figure alla debole luce della lanterna. Correvano silenziose nel sottobosco, all'esterefatto osservatore parve che fossero completamente nude. In seguito non avrebbe potuto giurare che il bambino lo fosse perché gli era sembrato che indossasse una specie di cintura a frange e un paio di brache corte e pantaloncini. Da allora Wilbur non fu mai visto vivo e cosciente senza un abbigliamento completo e vestiti perfettamente abbottonati. E anzi il disordine o qualsiasi cosa minacciasse di scompigliargli gli abiti sembrava riempirlo di furore e apprensione e a tal riguardo il contrasto con la sciatteria della madre e del nonno fu sempre considerato rimarichevole finché l'orrore nel 1928 ne fornì una ragione più che valida. Il gennaio seguente non suscitò meraviglia il fatto che il marmocchio scuro di Lavinia cominciasse a parlare. Aveva solo undici mesi. Il suo modo di esprimersi era alquanto stupefacente sia perché privo del caratteristico accento della regione sia perché rivelava una scioltezza e un'assoluta assenza di balbetti infantili di cui avrebbero potuto andar fieri bambini di tre o quattro anni. Il piccolo non era un chiacchierone ma quando parlava si avvertiva la presenza di qualcosa di indefinibile e di completamente estraneo a Danwich e ai suoi abitanti. La stranezza non consisteva in ciò che diceva né nei semplici vocaboli che usava ma sembrava vagamente connessa all'intonazione o agli organi stessi della parola. Anche la precocità del volto era rimarichevole perché sebbene come la madre e il nonno praticamente non avesse mento il naso forte già formato e l'espressione dei grandi occhi scuri quasi latini gli conferivano un'aria da persona adulta di intelligenza quasi sovrumana. Era tuttavia bruttissimo a dispetto della sua vivacità d'ingegno c'era qualcosa di caprino e di bestiale nelle grosse labbra nella pelle giallastra dai pori dilatati nei capelli crespi arruffati nelle orecchie stranamente allungate. Ben presto fu guardato con sospetto e antipatia maggiori di quelle che circondavano la madre e il nonno e tutte le supposizioni sul suo conto erano condite di allusioni ai trascorsi magici del vecchio Watley. E alla volta in cui le colline avevano tremato quando egli aveva urlato il tremendo nome di Yogg-Sothoth in mezzo a un cerchio di pietre con un grande libro aperto davanti a sé. I cani detestavano il piccolo che era sempre costretto a prendere misure difensive contro il loro abbaiare minaccioso. Nel frattempo il vecchio Watley continuava a comprare bestiame ma la mantria era sempre stranamente spaurita quindi tagliò del legname per riparare le parti disabilitate dalla fattoria. Una casa spaziosa dal tetto guzzo il cui rientro era completamente sepolto nel fianco roccioso della collina e di cui tre stanze al pian terreno meno in rovina delle altre erano sempre state sufficienti per lui e la figlia. Dovevano esserci prodigiose riserve di energia del vecchio per consentirgli di portare a termine una fatica tanto dura e sebbene a volte farfugliasse cose demenziali il suo lavoro sembrava risultato di calcoli accurati. In realtà il vecchio aveva cominciato i lavori alla nascita di Wilbur quando aveva improvvisamente riparato una baracca e l'aveva fornita di una nuova e robusta serratura. Adesso rimettendo a posto il piano superiore e disabitato della casa non si dimostrò artigiano menoabile. La sua follia si palesò soltanto nello sbarrare con assi di legno tutte le finestre della parte restaurata sebbene molti sostenessero che era già una pazzia prendersi la briga di fare tanti lavori. Più logico fu invece che riparasse un'altra stanza al pian terreno per il nipotino, stanza che alcuni visitatori ebbero modo di vedere. Nessuno invece fu ammesso al piano superiore. Watley ne rivestì le pareti con alte, solide scaffalature che riempì un poco alla volta con il massimo ordine sistemandovi gli antichi volumi faticenti e libri squinternati che ai suoi tempi aveva ammassato alla rinfusa in vari angoli della casa. Quante volte ho letto questi libri? Diceva, cercando di riattaccare una pagina stampata in caratteri gotici con una colla preparata su una stufa rugginosa della cucina. Ma il ragazzo saprà farne uso migliore. Meglio che siano in ordine, perché saranno tutta la sua scienza. A un anno e sette mesi, nel settembre del 1914, lo sviluppo fisico e intellettuale di Wilbur era impressionante. Era già alto e grosso come un bambino di quattro anni e parlava con una scioltezza e un'intelligenza incredibili. Correva libero per campi e colline e accompagnava la madre in tutti i suoi vagabondaggi. A casa studiava diligentemente le bizzarre illustrazioni e i diagrammi dei libri del nonno, mentre il vecchio Watley lo istruiva e catechizzava per interi lunghi pomeriggi. A quell'epoca i lavori di restauro della casa erano terminati e quelli che la videro si chiesero perché i Watley avessero trasformato una delle finestre del piano alto in una solida porta di assi. Era una finestra che dava sulla vicinissima collina, nella parte posteriore del timpano est a due spioventi. E nessuno riusciva a capire perché avessero costruito una pista o scivolo di legno davanti alla nuova porta del pian terreno. Verso la fine dei lavori, la gente notò che la vecchia baracca chiusa a chiave e senza finestre, quella riparata alla nascita di Wilbur, era stata nuovamente abbandonata. La porta adesso era sempre aperta e quando un giorno Earl Sawyer vi entrò, dopo essere stato dal vecchio Watley per una nuova consegna di bestiame, fu molto turbato dal singolare odore che avvertì. Un fetore, dichiarò, come mai aveva sentito in tutta la sua vita, salvo che nei pressi dei circoli di pietra indiani sulle colline e che non poteva provenire da niente di sano o di questo mondo. Ma, dopo tutto, le case e le baracche di Danwich non erano mai state un modello di purezza igienica. Nei mesi che seguirono non accadde nulla di particolare, o almeno nulla di cui la gente venisse al corrente, ad eccezione del fatto che tutti giuravano di aver notato un lento intensificarsi dei misteriosi rumori sulle colline. A vigilia di calendimaggio del 1915, tremori e boati furono avvertiti persino dalla gente di Hillsborough, mentre la successiva vigilia d'ogni santi si produssero rombi sotterranei stranamente sincronizzati con vampate di fuoco che si sprigionavano dalla cima di Sentinel Hill. Erano le stregonerie dei Watley. Wilbur intanto continuava a crescere in maniera stupefacente e quando compì quattro anni sembrava già un ragazzo di dieci. Ormai leggeva avidamente da solo, ma parlava molto meno di prima. Era sempre assorto e taciturno, e per la prima volta la gente cominciò a notare un'espressione decisamente maligna sul suo volto caprino. A volte borbottava in un linguaggio incomprensibile e cantava misteriose cantilene che raggelavano chi le udiva facendolo rabbrividire di inspiegabile terrore. Tutti ormai si erano accorti che i cani non lo potevano soffrire, ed egli era costretto a portare con sé una pistola per attraversare la campagna senza problemi. L'uso occasionale che faceva dell'arma non accrebbe la sua popolarità tra i proprietari di cani da guardia. I rari visitatori della casa trovavano spesso la vigna sola al pian terreno mentre grida e passi bizzarri risuonavano al piano alto sbarrato con assi. Non diceva mai ciò che suo padre e il ragazzo combinassero di sopra, sebbene in un'occasione impallidisse e dimostrasse una paura violenta quando un pescivendolo ambulante in vena di scherzare cercò di aprire la porta sprangata che dava sulle scale. In seguito il pescivendolo raccontò agli sfaccendati dello spaccio di Dunwich che gli era sembrato di udire lo scalpitare di un cavallo al piano di sopra. Quei fandolloni rifletterono pensando alla porta lontana dal suolo e allo scivolo, nonché al bestiame che scompariva tanto in fretta. Poi reprividirono al ricordo delle storie che risalivano alla lontana gioventù del vecchio Watley e delle strane cose che si possono evocare dalla terra quando un torello viene sacrificato in determinati periodi dell'anno a certi barbari dei. Da un certo tempo, inoltre, era stato notato che i cani avevano cominciato a detestare e a sfuggire la fattoria Watley con la stessa intensità con cui odiavano la persona del giovane Wilbur. Nel 1917 scoppiò la guerra e il nobiluomo Sawyer Watley, nella sua qualità di presidente della commissione di leva, ebbe il suo da fare a scovare un contingente di giovanote di Dunwich da mandare anche soltanto in un campo d'addestramento. Il ministero, allarmato da simili segni di diffusa decadenza regionale, mandò a Dunwich diversi funzionari e medici specialisti per conturre un'inchiesta che forse i lettori dei giornali del New England ricordano ancora. E fu la pubblicità data a questa inchiesta che mise i cronisti sulle tracce di Watley, inducendo il Boston Globe e l'Arkham Advertiser a stampare sensazionalistici articoli domenicali sulla precocità del giovane Wilbur, la magia nera del vecchio Watley, gli scaffali ingombri dei misteriosi libri, il secondo piano sbarrato dell'antica fattoria, l'arcana stranezza dell'intera regione e i rumori sulle colline. Wilbur aveva allora quattro anni e mezzo e pareva un ragazzo di quindici. Labbra e guancia erano coperte da una ruvida peluria scura e la sua voce aveva cominciato a cambiare. Earl Sawyer guidò schiere di cronisti e fotografi alla fattoria Watley e richiamò la loro attenzione sull'intollerabile fetore che adesso sembrava provenire dalle stanze sbarrate del primo piano. Era, disse, identico al tanfo che emanava dalla baracca abbandonata quando finalmente il vecchio aveva terminato i lavori in casa e assai simile al debole e quasi impercettibile lezzo che a volte gli era sembrato di avvertire sulle colline nei pressi di cerchi di pietra. Quelli di Danwich lessero questi articoli quando furono pubblicati e sogghignarono di alcune inesattezze. Si chiesero perché mai i giornalisti attribuissero tanta importanza al fatto che il vecchio Watley pagasse il bestiame con antiche monete d'oro quanto ai Watley essi avevano ricevuto gli intrusi con malcelato fastidio sebbene non avessero osato dare adito ad ulteriore pubblicità spattendo loro la porta in faccia e rifiutando di farsi intervistare. Nel corso dei dieci anni seguenti la vita di Watley si confuse con quella di una malsana comunità avvezza alle loro stranezze e che aveva ormai fatto il callo ai loro riti di calendimaggio e doni santi. Due volte all'anno i Watley accendevano falò sulla cima di Sentinel Hill e in quelle occasioni i brontolii sulle alte colline si facevano molto più frequenti e marcati. Ma in tutte le stagioni nella solitaria fattoria accadevano cose strane e spaventose. Col passar del tempo i visitatori ammisero che si udivano rumori anche al piano alto che era sempre sbarrato e questo persino quando tutta la famiglia si trovava di sotto. Qualcuno si chiese se le vacche e i buoi sacrificati venissero fatti morire alla svelta o lentamente. Si parlò di un reclamo alla società per la protezione degli animali ma poi non se ne fece più nulla perché la gente di Dunwich non ha mai amato richiamare su di sé l'attenzione del mondo esterno. Verso il 1923 quando Wilbur era un ragazzo di dieci anni e la sua intelligenza, la voce, la statura, il volto barbuto gli conferivano l'aspetto di un uomo fatto, la vecchia casa subì una seconda ondata di ristrutturazioni. I lavori ebbero luogo soprattutto al piano sbarrato e dal vecchio legname gettato via la gente dedusse che il giovane e il nonno avevano abbattuto tutti i tre mezzi e rimosso perfino il pavimento della soffitta lasciando così uno spazio interamente vuoto tra il pian terreno e il tetto a due falde spioventi. Demolirono il grande comignolo centrale e dotarono la stufa rugginosa di un tubo di latta che usciva direttamente da una finestra. La primavera seguente il vecchio Watley notò il numero sempre crescente di capri mulgi che uscivano dalla rada di Cold Spring per venire a cantare sotto la sua finestra. Di notte. Parve attribuire molta importanza a questo fatto e disse agli sfaccendati dello spaccio di Osborne che la sua ora era quasi giunta. Ora cantano a tempo col mio respiro. Disse. E credo che sono pronti a fregarmi l'anima. Sanno che sta per uscire e non vogliono perderla. Quando me ne sono andato ragazzi saprete subito se l'hanno presa o no. Se ci riescono continueranno a cantare e a ridere fino all'alba. Se non ci riescono si calmeranno subito. A volte le anime e i capri mulgi litigano. E come? La notte del primo agosto 1924 il dottor Hewton di Ellsbury fu chiamato d'urgenza da Wilbur Watley il quale aveva spronato nell'oscurità l'unico cavallo rimasto gli ed era andato a telefonargli da Osborne. Il medico trovò il vecchio Watley in condizioni molto gravi vittima di un attacco cardiaco e con il respiro affannoso che faceva presagire la fine imminente. La sgraziata figlia albina e il nipote bizzerramente barbuto pegliavano accanto, al capezzale, mentre al piano superiore e deserto proveniva un inquietante suono ritmico, ondeggiante come onde di sabbia. Tuttavia il dottore fu turbato specialmente dallo schiamazzo che facevano all'esterno gli uccelli notturni. Una legione di capri mulghi che gridavano il loro insistente e monotono richiamo in diabolica sintonia con gli affannosi rantoli del moribondo. Era misterioso e naturale. Davvero, pensò il dottor Newton, come la regione in cui si era inoltrato con tanta riluttanza in risposta a una chiamata urgente. Verso l'una il vecchio riprese conoscenza e interruppe il suo ansimare per bisbigliare a fatica qualche parola al nipote. Più spazio, Willy. Più spazio e presto. Tu cresci, ma quello cresce più svelto. Fra poco sarò pronto a servirti. Ragazzo, apri le porte a Yog-Sothoth con la lunga cantilena che troverai a pagina 751 dell'edizione integrale. E poi, dal fuoco, dal fuoco della prigione. Il fuoco della terra. Non può bruciarlo. Ora. Evidentemente era impazzito del tutto. Dopo una pausa durante la quale i capri mulghi adattarono il loro canto ossessivo al ritmo diverso del suo respiro, mentre di lontano giungevano indistinti brontolii dalle colline, il vecchio borbottò ancora qualche frase. Nutrita regolarmente, Willy. Stai attento alla quantità, ma non farlo crescere troppo per via dello spazio. Se butta giù la casa o esce prima di aver aperto le porte a Yog-Sothoth è tutto finito. Non servirà a niente. Solo quelli dell'altra parte possono moltiplicarlo e usarlo. Solo loro, gli antichi, che vogliono tornare indietro. La frase si spense in un rantolo e la vigna urlò quando i capri mulghi adattarono un'altra volta al loro canto frenetico al nuovo ritmo del respiro del vecchio. Continuò così per più di un'ora, finché giunse un rantolo finale. Il dottor Newton abbassò le palpebre raggrinzite sui grigi occhi sbarrati, mentre gli uccelli si erano quasi completamente zettiti. La vigna si inghiuzzava, ma Wilbur si limitò a sogghignare, mentre riecheggiavano debolmente rumori lontani sulle colline. Non l'hanno preso. Borbottò con la sua grossa voce di baffo. All'epoca, Wilbur era già uno studioso della prodigiosa erudizione, anche se in un solo campo, ed era conosciuto per corrispondenza da molti bibliotecari di città lontane dove si conservavano libri antichi, rari e proibiti. La gente dei dintorni intanto lo odiava e temeva sempre di più per via della scomparsa di alcuni giovani di cui lo si sospettava vagamente. Ma egli riuscì ad evitare ogni inchiesta perché incuteva paura o forse grazie alla riserva di monete d'oro cui attingeva ancora, come aveva fatto suo nonno per pagare il bestiame che acquistava in quantità crescente. Wilbur aveva un aspetto eccezionalmente maturo per la sua età, eppure avendo già raggiunto la normale statura di un adulto, tutto lasciava credere che l'avrebbe superata. Nel 1925, quando un erudito corrispondente della Miscatonic University andò un giorno a fargli visita per ripartire pallido e perplesso, era alto quasi due metri. In tutti quegli anni, Wilbur aveva sempre trattato la madre albina e deforme con crescente disprezzo, fino a proibirle di seguirlo sulle colline alla vigilia di Calendimaggio e di Ogni Santi. Nel 1926, l'infelice creatura si lamentò con Mammy Bishop d'aver paura di lui. «C'è più di lui di quanto ti possa dire, Mammy», le confidò. «E forse più di quanto tu stessa sappia. Giuro davanti a Dio che non so che cosa vuole o che cosa cerca di fare». Quella vigilia di Ogni Santi, i rumori risuonavano più forti che mai sulle colline e come sempre il fuoco di Van Poe su Sentinel Hill. Ma la gente dei dintorni prestò più attenzione al ritmico canto di grandi stormi di capremulghi che, nonostante l'autunno avanzato, si erano innaturalmente raccolti intorno alla buia fattoria dei Watley. Dopo mezzanotte, le voci acute degli uccelli esplosero in una sorta di canticchio demoniaco che impì l'intera campagna e non si chietò fino all'alba. Poi scomparvero, affrettandosi a volare nel sud dove avrebbero dovuto trovarsi già da un mese. Che cosa significasse lo si capì soltanto qualche tempo dopo. Sembrava che non fosse morto nessuno nella zona, ma la povera Lavinia Watley, l'albina deforme, non fu mai più vista in giro. Nell'estate del 1927, Wilbur riparò due baracche e cominciò a trasferirvi tutti i suoi libri e le sue cose. Poco dopo, Earl Sawyer riferì agli sfaccendati dello spaccio di Osborne che nella fattoria dei Watley erano cominciati nuovi lavori. Wilbur stava sbarrando porte e finestre al piano terra e doveva aver tolto i restanti tramezzi che aveva fatto di sopra quando anni prima era con il nonno. Viveva in una delle baracche e Sawyer disse che gli era parso insolitamente preoccupato e nervoso. La gente in genere lo sospettava di non essere completamente estraneo alla scomparsa della madre e ormai ben pochi usavano avventurarsi dalle sue parti. La sua statura aveva raggiunto i due metri e dieci centimetri, ma tutto lasciava credere che sarebbe cresciuto ancora. L'inverno seguente portò a un avvenimento straordinario, il primo viaggio di Wilbur fuori dal circondario di Danwich. Aveva scritto inutilmente alla Widener Library di Harvard, alla Biblioteque Nationale di Parigi, al Museo Britannico, all'Università di Buenos Aires nonché alla biblioteca della Miskatonic University di Arkham, per ottenere in prestito un libro di cui aveva disperatamente bisogno. Così, alla fine, si era deciso ad andare a consultare di persona. Trasandato, sporco, barbuto e sapendo esprimersi soltanto nel suo rozzo dialetto. La coppia custodita alla Miskatonic, il posto geograficamente più vicino. Alto quasi due metri e mezzo, con una valigia di cartone comprata allo spaccio di Osborne, quest'essere deforme, bruno e caprino, comparve un giorno ad Arkham, cercando il temuto volume custodito sotto chiave nella biblioteca dell'Università. L'abominevole Necronomicon del folle arabo Abdul Azared, nella versione latina di Olaus Wormius, stampato in Spagna nel XVII secolo. Wilbur non aveva mai visto una città prima d'allora, eppure non ebbe altro pensiero che rintracciare la sede dell'Università, dove entrò difilato, senza far caso al grosso cane da guardia dalle bianche zanne che gli abbagliava con furia e un'ostilità innaturali, dando frenetici strattoni alla catena. Wilbur aveva con sé un inestimabile, ma incompleto, esemplare della versione inglese del Dottor D, che il nonno gli aveva lasciato in eredità. E dopo aver ottenuto il permesso di consultare la versione latina, cominciò subito a confrontare i due testi allo scopo di scoprire un certo passo che avrebbe dovuto trovarsi a pagina 751 del suo manoscritto, se questo fosse stato completo. E per educazione non poteva esimersi dal parlarne al bibliotecario, con lo stesso erudito Henry Armitage, laureato in lettere della Miskatonich in filosofia a Princeton in letteratura alla Johns Hopkins, che una volta gli aveva fatto visita alla fattoria e che adesso lo importunava con le sue cortesi domande. Stava cercando, dovette ammettere, una specie di formula o incantesimo contenente lo spaventoso nome di Yogsotot. E lo sconcertava a trovare discrepanze, ripetizioni e ambiguità che rendevano tutt'altro che facile l'individuazione del passo cercato. Mentre copiava la formula che infine aveva scelto, il dottor Armitage sbirciò involontariamente al di sopra delle sue spalle le pagine aperte. Quella di sinistra, nella versione latina, conteneva terrificanti minacce alla pace e alla sanità nel mondo. «Né si deve pensare», diceva il testo che Armitage tradusse mentalmente. «E l'uomo sia il primo o l'ultimo dei padroni della terra, né che questo banale impasto di carne e anima sia il solo a calcarne la polvere. Gli antichi furono, gli antichi sono, gli antichi saranno. Non negli spazi che conosciamo, ma fra gli spazi, essi trascorrono sereni, primevi e addimensionali, e da noi non visti. Yogsotot conosce la porta. Yogsotot è la soglia. Yogsotot è la chiave e il guardiano della soglia. Passato, presente, futuro coesistono i Yogsotot. Egli sa dove gli antichi irruppero in tempi remoti e dove irromperanno un'altra volta. Egli sa dove essi hanno calcato i campi della terra e dove ancora li calcheranno, e perché nessuno può contemplarli mentre camminano. Dal loro odore possono gli uomini talvolta sapere che essi sono vicini, ma il loro sembiante nessun uomo conosce. Eccetto che nelle fattezze di coloro che essi hanno generato fra il genere umano. E di questi ultimi ve ne sono di molte sorte, assai diverse nell'aspetto. Dalla più rassomigliante immagine dell'uomo a quella invisibile forma priva di sostanze che è loro. Trascorrono non visti e abominevoli in luoghi solitari, dove le parole sono state pronunziate e i riti urlati nelle stagioni adatte. Le loro voci mormorano nel vento, la terra rimbomba della loro consapevolezza. Essi piegano foreste e abbattono città, ma foreste e città non possono vedere la mano che colpisce. Kadat nel deserto gelato li ha conosciuti. E quale uomo conosce Kadat? Le gelide desolazioni del sud e le inabissate isole dell'oceano costudiscono pietre e ove è inciso il loro sigillo, ma chi mai ha contemplato le città gelate o le misteriose torri inghirlandite di alghe e di conchiglie? Il grande Cthulhu è il loro cugino, eppure può scorgerli a stento. Là, Shub-Niggurat, come un'abominazione voi li conoscerete. La loro mano è sulla vostra gola, e tuttavia non li vedete, e la loro dimora è la vostra stessa vigilata soglia. Yogg-Sothoth è la chiave della soglia, ove le sfere si incontrano. L'uomo regna oggi dove essi regnarono un tempo, ma presto essi regneranno dove l'uomo oggi regna. Dopo l'estate è l'inverno, e dopo l'inverno è estate. Essi attendono, imperturbabili e potenti, perché qui essi torneranno a regnare. Il dottor Armitage, associando ciò che stava leggendo con quel che aveva sentito dire di Dunwich e delle sue presenze conturbanti, di Wilbur Watley e della tenebrosa sinistra aura che lo circondava dal tempo della sua equivoca nascita fino a un sospetto di probabile matricidio, si sentì travolgere da un'ondata di terrore, tangibile come la fetida corrente d'aria fredda proveniente da una tomba. Quel gigante caprino, chino sui libri che gli stava davanti, sembrava progenie di un altro pianeta o di un'altra dimensione, qualcosa che era soltanto in parte umano e per il resto figlio dei neri abissi di essenza ed esistenza che si dilatano, come titaniche fantasmagorie, di là dalle sfere di materia ed energia, di spazio e di tempo. Poco dopo, Wilbur alzò la testa e cominciò a parlare in quello strano modo risonante che faceva pensare ad organi della parola diversi da quelli umani. «Signor Armitage», disse, «Avevo pensato di portarmi a casa questo libro. Ci sono cose che devo provare. Qui non ci sono le condizioni adatte. Sarebbe un peccato mortale se il nastro rosso me lo impedisse. Me lo lasci prendere, signor Armitage. Giuro che nessuno se ne accorgerà. Non occorre dirlo, ma ci terrò molta cura. Non sono stato mica io a ridurre in questo stato la coppia di Dil...» Si interruppe vedendo il fermo diniego sulla faccia del bibliotecario e sui suoi lineamenti caprini si dipinse un'espressione furba. Armitage, che stava per dirgli di copiare tutte le pagine che voleva, pensò tutto il tratto alle possibili conseguenze e si trattenne. Non intendeva assumersi la responsabilità di dare a un simile essere la chiave che schiude certe blasfeme sfere esterne. Watley capita al volo la situazione e ritenne più prudente non insistere. «Beh, se la mette così, forse ad Harvard saranno meno pignoli». E senza aggiungere altro si alzò e uscì dalla biblioteca, chinandosi davanti a ogni uscio. Armitage udì il selvaggio abbaiare del grosso cane da guardia e osservò dalla finestra la goffa andatura di Watley, che procedeva a balzi come un gorilla attraverso il prato sottostante. Ripensò agli strani racconti che aveva udito e gli tornarono in mente i vecchi articoli apparsi sui numeri domenicali dell'advertiser e le leggende raccolte tra i contadini e gli abitanti di Dunwich l'unica volta che si era recato là. Cose invisibili e non di questo mondo, o almeno non del mondo tridimensionale, scorrazzavano immonde e abominevoli nelle strette e profonde valli del New England. E oscenamente s'annidavano sulle cime di monti e colline. Di questo era sicuro da tempo. Adesso credeva di avvertire vicinissima la presenza di quell'orrore strisciante. Ne intravedeva l'infernale avanzata nel tenebroso dominio dell'antico incubo. Un tempo inerte. Chiuse a chiave il Necronomicon con un brivido di disgusto, ma nella stanza ancora stagnava un lezzo empio e inidentificabile. Come un'abominazione, voi li conoscerete. Ripetè fra se e se. Sì, era lo stesso Danfo che lo aveva fatto star male alla fattoria dei Watley meno di tre anni prima. Pensò ancora una volta a Wilbur, caprino e sinistro, e sorrise ironicamente al ricordo delle voci che correvano al villaggio a proposito della sua paternità. Altro che incesto, borbottò a mezza voce. Buon Dio, che sempliciotti. Mostrategli il grandio pan di Arthur Macken e quelli penseranno a un normale scandalo di Danwich. Ma cosa? Quale maledetto informe orrore scaturito o meno da questo mondo tridimensionale fu il padre di Wilbur Watley? Nato il giorno della Candelora, nove mesi dopo il calendimaggio del 1912, quando le chiacchiere sui bizzari rumori sotterranei giunsero fino ad Arkham? Cosa camminava sulle colline quella notte di maggio? Quale orrore si insinuò in questo mondo, in carne e sangue semi umani, nel giorno della croce? Nelle settimane seguenti il dottore Armitage cercò di raccogliere ogni possibile informazione su Wilbur Watley e sulle presenze invisibili che infestavano Danwich. Si mise in contatto con il dottor Houghton di Aylesbury che aveva assistito il vecchio Watley nella sua ultima e fatale malattia. E gli dettero molto da pensare le ultime parole rivolte dal nonno al nipote che il medico gli riferì. Fece un'altra puntata al villaggio di Danwich, ma non scoprì nulla di nuovo. Tuttavia, un attento esame del necronomicon e soprattutto delle parti che Wilbur cercava avidamente, parve fornirgli nuovi e terribili indizi riguardo alla natura, la tattica e le mire della misteriosa forza maligna che minacciava oscuramente questo pianeta. Le conversazioni scambiate con alcuni studiosi di antiche tradizioni a Boston, nonché una fitta corrispondenza con alcuni eruditi sparsi un po' ovunque, lo riempirono ad un allarme e uno sgomento che divennero ben presto vero e proprio panico. Con l'avvicinarsi dell'estate sentì che era necessario fare qualcosa, senza sapere bene cosa, per far fronte ai terrore in agguato nella valle del Miscatonis superiore e all'essere mostruoso noto agli uomini sotto il nome di Wilbur Watley. L'orrore di Danwich giunse dal primo agosto e l'equinozio del 1928, il dottor Armitage fu tra coloro che se ne videro il mostruoso prologo con i propri occhi. Nel frattempo aveva saputo del grottesco viaggio a Boston di Watley e dei suoi frenetici sforzi per ottenere in prestito il Necronomicon dalla Widener Library o poterne copiare i brani. Ma i suoi tentativi erano stati vani perché Armitage aveva inviato ancora appelli a tutti bibliotecari che custodivano l'esegrato volume, mettendoli in guardia. Wilbur si era dimostrato estremamente nervoso a Cambridge, ansioso di procurarsi il libro e altrettanto ansioso di tornare a casa come se temesse le conseguenze di un'assenza prolungata. Ai primi di agosto ebbe luogo l'episodio quasi previsto e nelle ore piccole del giorno 3 il dottor Armitage fu svegliato di soprassalto dai selvaggi latrati del feroce cane da guardia nel campus del college. Ringhiava, guaiva, appaiava in un crescendo terribile, interrotto da pause spaventose e significative. Poi, da una gola che non era affatto quella del cane, esplose un urlo che svegliò metà degli abitanti di Arkham e che avrebbe infestato per sempre i loro sogni, un urlo che nessun essere in questo mondo o del tutto umano avrebbe mai potuto emettere. Armitage, infilandosi addosso qualcosa in fretta e furia, corse a perdifiato sul prato del college verso gli edifici universitari e vide che altri lo avevano preceduto. Poteva udire il campanello d'allarme che suonava ancora in biblioteca. Una finestra aperta sembrava una nera bocca spalancata sotto il chiaro di luna. L'intruso si trovava ormai dentro l'edificio, perché i latrati e le urla che andavano affievolendosi in ringhi lamentosi soffocati provenivano incontestabilmente dall'interno. L'istinto avvertì Armitage che quello che stava accadendo non era spettacolo per gente normale. Così respinse con decisione la piccola folla di persone impaurite e assonnate, mentre faceva scattare la serratura della porta d'ingresso. Vide, tra gli altri, il professor Warren Rice e il dottor Francis Morgan, due uomini ai quali avevano confidato le sue congetture e a questi fece cenno di seguirlo. Dall'interno non preveniva più alcun rumore, tranne il ringhio basso e continuo del cane. Ma Armitage con un improvviso sussulto sentì che un alto coro di caprimulli tra i cespugli intonava il diabolico e ritmico canto, come se stesse accompagnando gli ultimi respiri di un moribondo. Nei locali ristagnava il lezzo spaventoso che il dottor Armitage conosceva bene e i tre uomini attraversarono di corsa l'atrio diretti alla saletta di lettura della sezione genealogica dalla quale sembrava provenire il basso mugolio del cane. Per un secondo nessuno osò accendere la luce, ma poi Armitage, chiamato a raccolta tutto il suo coraggio, fece scattare l'interruttore. Uno dei tre, non si sa bene chi, urlò alla vista della cosa che giaceva sul pavimento fra tavoli in disordine e sedie rovesciate. Il professor Rice affermava di aver perduto conoscenza per un istante senza tuttavia barcollare né cadere. La cosa, distesa sul fianco e immersa in una puzza di core verde giallastro, denso come catrame, era lunga quasi due metri e settanta, e il cane ne aveva ridotto a brandelli vestiti e proporzioni di pelle. Non era ancora morta, ma si contorceva spasmodicamente in silenzio, mentre il torace si alzava e si abbassava in mostruosa sintonia con il folle canto dei caprimulghi in attesa. Frammenti di cuoio delle scarpe e pezzi di vestiario erano sparsi tutti intorno, e appena sotto la finestra un sacco di tela vuoto giaceva laddove evidentemente era stato gettato. Una rivoltella era caduta accanto al tavolo centrale, e più tardi si scoprì che una cartuccia difettosa aveva impedito all'arma di sparare. Tuttavia, in quel momento fu la creatura a richiamare l'attenzione degli uomini. Sarebbe banale e parzialmente inesatto affermare che nessuna penna umana avrebbe potuto descriverla. Ma si può dire senz'altro che non poteva essere percepita con chiarezza da nessuno di cui idee di grandezza e aspetto fisico fossero troppo strettamente legate alle forme di vita comuni su questo pianeta e ha una prospettiva tridimensionale. Era parzialmente umana, senza dubbio, con mani e testa umane, e la faccia caprina e senza mento ricava l'inconfondibile impronta dei Watley. Ma il torso e la parte inferiore del corpo erano favolosamente difformi, e solo i vestiti, molto larghi, avevano consentito a simile trionfo tetralogico di camminare impunemente sulla terra. Dalla vita in su era semi-antropomorfo, anche se il petto su cui poggiavano ancora le zampe del cane che l'aveva dilaniato era rivestito della pelle coriacea di un coccodrillo o di un alligatore. La schiena era chiazzata di giallo e nero e ricordava vagamente la pelle squamosa di certi serpenti. Ma dalla vita in giù era anche peggio, perché qui finiva ogni parvenza umana e cominciava l'incubo sfrenato. Era ricoperto di una folta pelliccia nera e nell'addome si protendevano una ventina di lunghi tentacoli flessibili, verde grigiastri dotati di ventose rosse. La loro disposizione era bizzarra e sembrava seguire le simmetrie di una geometria cosmica sconosciuta alla Terra o al sistema solare. In ciascun fianco, affondato in una sorta di orbita rosea e ciliata, sapriva quello che sembrava un occhio rudimentale, mentre al posto della coda pendeva una specie di proboscide ed organo senziente formato da anelli purpurei, che aveva tutta l'aria di essere una bocca o una gola mal sviluppata. Gli arti inferiori, tranne che per la folta pelliccia nera, rammentavano vagamente le zampe posteriori dei giganteschi sauri preistorici e terminavano in appendici, increspate di vene che non erano né cioccoli né artigli. Quando la cosa respirava, i tentacoli e l'organo al posto della coda cambiavano ritmicamente colore, probabilmente per cause circolatorie e normali dalla parte non umana del suo corpo. Nei tentacoli, la sfumatura verdastra si accentuava, mentre nella pseudocoda gli spazi fra i anelli purpurei si tingevano di un colore giallastro che si alternava a un bianco grigiastro malaticcio. Di vero sangue non ce n'era, solo l'orrendo siero giallo colava sul pavimento allargandosi in una bozza viscosa che stranamente lo scoloriva. L'essere morente parve accorgersi della presenza di tre uomini, perché cominciò a borbottare qualcosa senza alzare o voltare la testa. Il dottor Armitage non registrò per iscritto quei balbetti, ma afferma in confidenza che nulla fu pronunziato in inglese. Dapprima le sue parole non sembravano appartenere a nessuna lingua conosciuta, ma verso la fine risuonarono alcune frasi connesse con tutta evidenza ai passi del Necronomicon, l'opera empia e mostruosa in cerca della quale la cosa era partita. Questi frammenti, come Armitage li ricorda, suonavano più o meno così. Si persero nel nulla, mentre i capi mulghi stridevano in un ritmico crescendo d'attesa crudele. Poi la cosa smise di rantolare e il cane alzò il muso emettendo un lungo lugubre ululato. Un cambiamento sopravvenne nel volto caprino e giallastro dell'essere disteso sul pavimento e i grandi occhi neri divennero spaventosamente vitrei. Fuori dalla finestra lo stridulo canto dei capi mulghi si placò all'improvviso e sopra il mormorio della folla che si era raccolta nei pressi si udì un panico e un frenetico frullar d'ali. Contro la luna si profilarono grandi nuvole di uccelli in fuga, terrorizzati da ciò che avevano atteso. Tutto a un tratto il cane sussultò, guai spaventato e saltò freneticamente dalla finestra attraverso cui era entrato. Un grido si levò dalla folla e il dottor Ermite giurlò agli uomini fuori di non fare entrare nessuno finché la polizia e il medico legale non fossero giunti sul posto. Ringraziò il cielo che le finestre fossero troppo alte perché qualcuno potesse sbirciare all'interno e per maggiore sicurezza tirò accuratamente le tende scure. Intanto erano arrivati due poliziotti e dottor Morgan, andato loro incontro nell'atrio, gli scongiurò di non entrare nella saletta satura di orrore finché non fosse giunto il medico legale e si fosse quindi potuta coprire la cosa distesa sul pavimento. Nel frattempo, orribili mutamenti avvenivano nella creatura. Non occorre descrivere il genere e il grado di contrazioni e disintegrazioni che ebbero luogo sotto gli occhi del dottor Ermite gi del professor Rice. Basti dire che tranne la parvenza fornita da faccia e mani, l'elemento umano di Wilbur Watley era stato minimo. Quando finalmente arrivò il medico legale, trovò soltanto una viscida massa biancastra sul pavimento, mentre il lezzo abominevole era quasi scomparso. Watley evidentemente non aveva mai avuto un teschio né uno scheletro stabili e permanenti. Per certi versi doveva assomigliare parecchio al padre sconosciuto. Ma tutto questo non fu che il preludio dell'orrore di Dunwich. Funzionari sgomenti provvidero alla formalità di rito, i dettagli più raccapriccianti furono accuratamente tenuti nascosti alla stampa e al pubblico e tanto a Dunwich quanto a Daysbury furono inviati uomini per fare un inventario delle proprietà, per mettersi in contatto con eventuali eredi del defunto Wilbur Watley. Trovarono la campagna in grande fermento, sia per i crescenti rumori che venivano da sotto le colline a cupola, sia a causa dell'insopportabile fetore e degli insistenti suoni, simili a onde o shabordii che provenivano incessantemente dalla grande rovina vuota che era diventata la fattoria dei Watley. Earl Sawyer, che si era preoccupato del cavallo del vestiame durante l'assenza di Wilbur, era sull'orlo di un esaurimento nervoso. I funzionari trovarono pretesti per non entrare nella rumorosa casa sbarrata e si accontentarono di ispezionare le due baracche recentemente rimesse a nuovo dove il defunto aveva vissuto negli ultimi tempi. Tra l'altro vi si recarono una volta soltanto. Inoltrarono un voluminoso rapporto al tribunale di Asbury e si dice che liti per il possesso dell'eredità siano ancora in corso tra gli innumerevoli Watley, decaduti e non della valle del Miskatonich superiore. Un manoscritto interminabile in caratteri misteriosi, vergato su un enorme libro mastro e ritenuto una specie di diario a causa delle spaziature e delle variazioni di inchiostro e di scrittura, costituì un formidabile rompicapo per coloro che lo trovarono nel vecchio Comò, che fungeva da scrittoio del defunto. Dopo una settimana di accese discussioni fu inviato alla Miskatonich University assieme alla raccolta di misteriosi libri appartenuti a Wilbur. Perché venisse studiato e possibilmente tradotto, ma anche i migliori linguisti videro subito che era un'impresa disperata. Non fu invece trovata traccia dell'oro antico con cui Wilbur e il vecchio Watley erano soliti pagare i loro acquisti. L'orrore si scatenò il 9 settembre dopo il tramonto. I rumori sulle colline erano stati particolarmente forti durante la sera e i cani abbaiarono rabbiosamente tutta la notte. Le persone più mattiniere, il giorno 10, avvertirono un singolare fetore nell'aria. Verso le 7, Luther Brown, il garzone di George Corey, che aveva la fattoria fra la rada di Cold Spring e il viellaggio, tornò indietro di corsa, sconvolto dalla paura, dai pascoli di Ten Acre Meadow, dove aveva portato il bestiame. Era letteralmente fuori di sé quando irruppe in cucina, mentre nel cortile le vacche, non meno terrorizzate di lui, scalpitavano e mugivano penosamente dato che avevano seguito il ragazzo in preda al panico. Balbettando e respirando affannosamente, Luther cercò di raccontare alla signora Corey ciò che aveva visto. «Lassù, signora Corey, dall'altra parte del vallone, nel sentiero c'era qualcosa, un tanfo da matti e i cespugli e gli alberelli tutti spaccati e buttati da parte, come se ci fosse passato sopra una casa. E non è questo il peggio. Le impronte nel sentiero, signora Corey, grandi impronte, grandi come una botte, profonde come quelle di un elefante. Solo che le zampe dovevano essere più di quattro. Ne ho guardata una prima di scappare e ho visto che era coperta di linee che partivano da un solo posto, come se il terreno fosse stato calpestato da pinne o da piedi palmati, ma grandi, assai grandi. E la puzzera è tremenda, come quella attorno alla casa del mago Watley». Gli mancò il fiato e ricominciò a tremare, pensando allo spavento che le aveva fatto tornare a casa rotta di collo. La signora Corey, non riuscendo a cavare altro dal ragazzo, cominciò a telefonare ai vicini, diffondendo in tal modo i preludi di un panico che faceva presagire ben più grandi terrori. Quando sentì Sally Sawyer, governante di Seth Bishop, nella fattoria più vicina a quella dei Watley, toccò a lei ascoltare anziché comunicare le cattive notizie. Pareva dunque che Chauncey, figlio di Sally, che soffriva di insonnia, fosse stato sulla collina dalle parti dei Watley e fosse scappato anche lui in preda al panico, dopo aver dato un'occhiata al luogo e al pascolo dove le vacche del signor Bishop erano rimaste per tutta la notte. «Sì, signora Corey», disse la voce tremante di Sally all'altro capo del filo. Chauncey, appena tornato a dirmelo, quasi non riusciva a parlare, tanto aveva paura e disgraziato. Dice che la casa del vecchio Watley è scoppiata, con le assi fatte a pezzi come se dentro ci fosse la dinamite. Solo il pavimento e il pian terreno è rimasto intero, ma è coperto da una specie di fango che pare catrame. C'è una puzza tremenda e anche la tavola e i pezzi dei mobili hanno ancora attaccato quell'odore. E nel cortile ci sono segni che fanno paura. Grandi impronte tonde, più grandi della testa di un porco, attacca Teach come la roba nella casa scoppiata. Chauncey dice che vanno verso i prati, dove l'erba è tutta schizzata e anche i muri della stalla sono crollati. Dove passa quella cosa, tutto viene giù. E dice, continuò Sally, che quando ha cercato le vacche di Seth, con la paura che aveva, le ha trovate nel pascolo alto vicino a Devil's Hope Yard. Erano in condizioni tremende. La metà erano spacciate e l'altra metà, quello che restava delle povere bestie, erano tutte senza sangue. Qualcosa gliel'ha succhiato e avevano piaghe come quelle sulle bestie dei Watley quando è nato il marmocchio di Lavinia. Seth è uscito adesso per andare a casa del mago Watley. Chauncey non ha guardato bene dove parte la fascia di erba schizzata oltre il terreno del pascolo, ma gli pare verso il sentiero del vallone che scende al villaggio. Glielo dico io, signora Corey. Poi c'è in giro qualcosa che non dovrebbe esserci e giurerei che dietro a tutta questa porcheria c'è Wilbur Watley, l'oscuro. Ma sì, ha avuto la fine che meritava. Non era un uomo normale e penso che lui e il vecchio Watley dentro la casa hanno tirato su qualcosa che è ancora meno umano. Ci sono sempre state cose vive intorno a Dunwich. Vive ma non umane e non buone per l'umanità. La scorsa notte la terra abbrontolato e verso mattina Chauncey ha sentito i capri mulghi cantare forte nella rada di Cold Spring e non ha chiuso occhio. Dopo gli è sembrato di sentire un altro rumore, più debole dalle parti del mago Watley, come legno spezzato. Sì, come se lontano aprissero una cassa di legno. Così, fra una cosa e l'altra, non ha dormito fino all'alba, ma si è alzato presto lo stesso per andare a vedere quello che succedeva nel posto dei Watley. Ha visto abbastanza, signora Cori. Le dico solo questo. Non c'è niente di buono in questa storia. Tutti gli uomini dovrebbero formare una squadra e agire. C'è qualcosa di spaventoso nei dintorni e sento che sta arrivando la nostra ora. Ma Dio solo sa di che cosa si tratta. Il suo Luther ha visto dove portavano le impronte. No? Beh, signora Cori, se erano sul sentiero del vallone e non vanno verso casa nostra, allora dovrebbero portare nella valle direttamente. Dico sempre che la rada di Cold Spring non è un buon posto e neanche sano. I caprimulghi e le lucciole là non si sono mai comportati come creature di Dio e loro sono, o così dicono, a comunicare strane cose mentre volano nell'aria, mettendosi nei posti giusti, tra le cascate, a Bear's Den. Chiunque li può sentire. Verso mezzogiorno, più di tre quarti degli uomini e dei ragazzi di Dunwich si diressero in gruppi verso le strade e i campi compresi nella zona fra le nuove rovine della fattoria Watley e la rada di Cold Spring. Esaminando con orrore le grandi, mostruose impronte, il bestiame mutilato di Bishop, i misteriosi resti ammorbati della fattoria e la vegetazione, sui campi e lungo i sentieri e le strade, pressata e stritolata. Qualsiasi cosa avesse fatto irruzione nel mondo, di sicuro era andato giù nella grande e sinistra forra. Perché tutti gli alberi sul bordo erano stati schiantati e un enorme solco era stato scavato nel sottobosco che sovrastava la gola. Era come se una casa, trascinata da una valanga, fosse scivolata fra la fitta vegetazione del pendio quasi verticale. Dal fondo del vallone non proveniva alcun suono, ma soltanto un vago, indefinibile fetore. Nessuna meraviglia, dunque, che gli uomini preferissero starsene al sicuro ai margini, discutendo sul da farsi, piuttosto che scendere di sotto e affrontare l'ignoto e ciclopico orrore nella sua tana. In un primo tempo, tre cani che gli uomini avevano portato con sé si erano messi ad abbaiare furiosamente, ma giunti nei pressi della gola parvero intimoriti e riluttanti ad avvicinarsi. Qualcuno telefonò la notizia all'Asbury Transcript, ma il redattore, abituato alle mirabolanti storie di Dunwich, si limitò a pubblicarne un trafiletto umoristico, subito ripreso dall'Associated Press. Quella sera tutti fecero ritorno alle loro case e ogni abitazione e ogni stalla fu sbarrata il più solidamente possibile. Inutile dire che anche tutto il bestiame fu fatto rientrare. Verso le due del mattino, un tanfo mostruoso e il selvaggio abbaiare dei cani svegliarono alla famiglia di Elmer Frye, che abitava vicino al bordo orientale del vallone, e tutti convennero di aver udito una specie di mormorio o di ovattato sciabordio provenire da qualche parte dall'esterno. La signora Frye propose di telefonare ai vicini ed Elmer stava per farlo, quando uno schianto di legno spezzato li fece sobbalzare. Farreva venisse dalla stalla e fu seguito subito da raccapriccianti mugiti e scalpitii. I cani si accucciarono sbavando ai piedi del padrone sgomenti. Frye accese una lanterna per forza di abitudine, ma sapeva che uscire nell'aia immersa nell'oscurità significava morire. I bambini e le donne di casa piagnucolarono, trattenendosi dal gridare, perché un oscuro, arcaico istinto di conservazione, li avvertiva che le loro vite dipendevano dal silenzio. Alla fine, dalla stalla, provenì soltanto un pietoso lamento, seguito da un grande fracasso di colpi, crolli e schianti. I Frye, stretti l'uno all'altro nel soggiorno, non osarono muoversi finché ogni rumore non si fu spento in lontananza, verso la rada di Cold Spring. Allora, fra i lugubri lamenti provenienti dalla stalla e il canto demoniaco dei capri mulghi nella forra, Selina Frye raggiunse vacillando il telefono e comunicò le tragiche nuove che contrassegnavano l'inizio della seconda fase dell'orrore. Il giorno dopo, l'intera campagna era in preda al panico e gruppi d'uomini silenziosi e sgomenti andavano e venivano dal luogo dove si era verificato l'orrendo episodio. Due titanici solchi di distruzione correvano dal vallone all'aia dei Frye. Impronte mostruose punteggiavano i tratti di terreno privi di vegetazione e una parte della vecchia stalla rossa era completamente crollata. Solo un quarto del bestiame poteva essere ritrovato identificato. Certi capi erano stati fatti a pezzi e quelli sopravvissuti dovettero essere abbattuti. Earl Sawyer suggerì di chiedere aiuto a Dalesbury o ad Arkham, ma altri dissero che sarebbe stato inutile. Il vecchio Zebulun Watley, di un ramo del tutto non decaduto, accennò ad alcune cose oscure e avanzò pazzesche proposte circa i rituali che bisognava tenere sulla sommità delle colline. Discendeva da una famiglia di solide tradizioni e i suoi ricordi di canti entro i grandi cerchi di pietra non avevano nulla a che vedere con Wilbur e suo nonno. L'oscurità scese su quella contrada sgomenta e troppo passiva per organizzare una difesa vera e propria. Alcune famiglie tra loro imparentate decisero di trascorrere la notte sotto lo stesso tetto, vegliando insieme fino all'alba. Ma in generale la gente si limitò a abbarricarsi nelle case come la notte prima e alcuni presero l'inutile e irrisoria precauzione di caricare vecchi moschetti e di tenere forconi a portata di mano. Tuttavia non successe nulla di particolare, salvo qualche rumore sulle colline. E quando fece giorno, molti sperarono che il nuovo orrore se ne fosse andato altrettanto improvvisamente di com'era venuto. Alcuni ardimentosi proposero addirittura una spedizione punitiva nel vallone, benché nessuno di essi osasse per primo dare l'esempio alla maggioranza reluttante. Al calar della notte i contadini si barricarono un'altra volta in casa, sebbene meno famiglie si riunissero assieme. Il mattino dopo i frai e i bishop riferirono che i cani erano stati molto inquieti per tutta la notte e che si erano avvertiti rumori e tonfi in lontananza, mentre alcune persone mattiniere, uscite per un giro di controllo nei dintorni, notarono con raccapriccio una nuova serie di mostruose impronte nella strada che costeggiava Sentinel Hill. Come nei casi precedenti, in più punti la carreggiata era franata, fatto che indicava quanto fosse tremendamente prodigiosa la mole dell'invisibile orrore. La disposizione delle tracce sembrava denotare un duplice passaggio, come se la montagna mobile fosse venuta dalla rada di Cold Spring e vi fosse tornata per la stessa via. Alla base della collina, una fascia di circa nove metri di arbusti spianati saliva quasi a picco, e gli uomini rimasero sbalorditi quando videro che l'enorme solco proseguiva anche nei punti a strapiombo, senza deviare. Di qualunque mostro si trattasse, era in grado di scalare un dirupo roccioso quasi perfettamente verticale, e quando questi coraggiosi raggiunsero la sommità della collina, seguendo sentieri più sicuri, videro che qui il solco terminava. O, piuttosto, incominciava. Ed era proprio il posto dove i Watley erano soliti accendere i loro fuochi infernali e cantare demoniaci rituali accanto alla roccia a forma di altare, le vigilie di calendimaggio e doni santi. Adesso, quella pietra costituiva il centro esatto di un vasto spazio calpestato dall'orrore colossale. Mentre sulla superficie, leggermente concava, s'era depositato uno spesso strato della medesima melma fetida e viscosa notata sul pavimento della fattoria Watley, quando l'abuminio ne era esploso fuori, distruggendola. Gli uomini si guardarono, scuotendo la testa e borbottando qualcosa sottovoce. Poi osservarono la collina sottostante. Con tutta evidenza, l'abuminio era disceso a valle, seguendo una via grossomodo uguale a quella percorsa per salire lassù. Far congetture non aveva senso. Ragione, logica, ogni punto di vista umano vacillavano di fronte all'ignoto. Forse solo il vecchio Zebulon, che non era con il gruppo, avrebbe potuto rendere giustizia alla situazione o suggerire una spiegazione plausibile. La notte di giovedì cominciò come le altre, ma finì molto peggio. I caprimugli ammassati nel vallone avevano strillato con tanta insistenza che molti non erano riusciti a chiudere occhio. E verso le tre del mattino, tutti i telefoni collegati al centralino cominciarono a trillare contemporaneamente. Coloro che alzarono il ricevitore udirono una voce rotta dal panico urlare. Aiuto! Oh mio Dio! Aiuto! E a qualcuno sembrò che l'interruzione della voce fosse stata seguita dal rumore di uno schianto. Poi più nulla. Nessuno osò muoversi, e fino al mattino seguente nessuno seppe da dove proveniva la chiamata. Adesso coloro che l'avevano ascoltata chiamarono a turno tutti quelli collegati al centralino, e si scoprì che soltanto i frai non rispondevano. Un'ora dopo si seppe la verità, quando un gruppo di uomini armati, radunatosi in fretta e furia, si diresse verso la fattoria dei frai al limitare del vallone. Fu orribile, ma non una sorpresa. Gli uomini trovarono altri solchi e orme mostruose, ma la fattoria non esisteva più. Era stata stritolata come un fragile guscio d'uovo e tra le rovine non c'era nessuno, vivo o morto. Soltanto fetore e una sostanza viscosa. La famiglia di Elmer Frye era stata cancellata da Dunwich. Nel frattempo, un altro aspetto dell'orrore, più silenzioso ma spiritualmente ancora più intenso, andava malignamente dispiegandosi dietro la porta chiusa in una stanza di Arkham, dalle pareti coperte di libri. Il curioso manoscritto o diario di Wilbur Wasley, affidato alla Miscatonic University perché venisse tradotto, aveva provocato imbarazzo e perplessità tra gli specialisti di lingue antiche e moderne. Perché gli stessi caratteri usati, nonostante una leggera somiglianza con l'arabo astruso della Mesopotamia, erano assolutamente sconosciuti alle varie autorità contattate. I linguisti giunsero alla conclusione che doveva trattarsi di un alfabeto fittizio che sortiva agli stessi risultati di un cifrario. Sebbene, nessuno dei soliti metodi di decifrazione criptografica fornisse qualche indizio utile, a prescindere dalla lingua che l'autore poteva avere usato. Furono sperimentate quasi tutte le note. Gli antichi volumi trovati nelle baracche dove Watley aveva visto i suoi ultimi giorni, sebbene estremamente interessanti e in parecchi casi densi di promesse per i nuovi e terribili campi di ricerca per i filosofi e gli uomini di scienza, non furono di alcun aiuto sotto questo profilo. Uno di essi, un poderoso tomo con chiusura di ferro, era scritto in un altro alfabeto sconosciuto, ma di genere diverso, e ricordava soprattutto il sanscrito. Alla fine, volumi e manoscritti furono affidati al dottore Hermitage, sia per il suo particolare interesse nei confronti del caso Watley, sia per le sue vaste cognizioni di glottologo e l'esperienza in fatto di formule magiche dell'antichità e del medioevo. Hermitage si formò l'opinione che doveva trattarsi di un alfabeto usato in modo esoterico, come presso certi culti proibiti tramandati dai tempi antichi e che hanno ereditato consuetudini e tradizioni dai maghi del mondo saraceno. Quel problema, tuttavia, non era vitale, perché sarebbe stato inutile conoscere l'origine dei caratteri se, come sospettava, essi erano stati usati come scrittura cifrata in una lingua moderna. E riteneva anche che, data l'estensione del testo, lo scrivente ben difficilmente si sarebbe preso la briga di usare una lingua diversa dalla sua, tranne forse che per certe particolari formule magiche o incantesimi. Di conseguenza, cominciò a lavorare al manoscritto, partendo dalla premessa che il grosso del testo fosse in inglese. Il dottor Hermitage sapeva, visti i ripetuti fallimenti dei suoi colleghi, che l'enigma era profondo e complesso, e quindi sarebbe stato perfettamente inutile cercare di risolverlo con i metodi usuali. Nell'ultima parte di agosto, egli arricchì le sue già vaste cognizioni di crittografia, attingendo a tutte le risorse della sua biblioteca personale. E notte dopo notte, sprofondò negli arcani della poligrafia di Tritemio, del Defurtivis Literatum Notis di Jean-Baptiste Porta, del Traité de Chiffré, del Devigener, della Cryptomensis Patefacta del Falconer, dei trattati del XVIII secolo di Davis et Dickness, e di alcune più recenti autorità, quali Blair, Von Martin, nonché Cryptographic di Kluber. Alternava lo studio di questi volumi a estenuanti tentativi di venire a capo dello stesso manoscritto, e col passare del tempo si convinse di avere a che fare con uno di quei sistemi crittografici fra i più ingegniosi ed esclusivi, in cui diverse serie di lettere corrispondenti sono ordinate allo stesso modo dalla tavola pitagorica, e il messaggio è costruito con parole chiave arbitrarie note solo agli iniziati. Le autorità più antiche, in ogni modo, gli furono più di aiuto di quelle moderne, e Hermitage giunse alla conclusione che il codice del manoscritto doveva essere antichissimo, indubbiamente tramandato attraverso molte generazioni di sperimentatori occulti. Più di una volta gli parve di essere a un passo dalla soluzione, ma sempre qualche ostacolo imprevisto lo riportava al punto di partenza. Infine, in settembre, l'oscurità si fece meno fitta. Certe serie di lettere, usate in determinate parti del manoscritto, emersero nitidamente e inequivocabilmente. Risultò senza ombra di dubbio che il testo era davvero in inglese. La sera del 2 settembre corollò l'ultima barriera e il dottor Hermitage riuscì a leggere per la prima volta un intero brano delle cronache di Wilbur Wadley. Si trattava di un diario, come tutti avevano supposto, ed era vergato in uno stile che rivelava in modo ovvio la mescolanza di erudizione occulta e di mancanza di cultura generale dello strano essere che l'aveva scritto. Uno dei primi passi cifrati da Hermitage, una notazione datata 26 novembre 1916, si dimostrò molto inquietante. Anzi, stupefacente. Era stata scritta, gli venne fatto di pensare, da un bambino di tre anni e mezzo che aveva l'aspetto di un ragazzo di 12 o 13 anni. Oggi imparato l'aclo per il Sabaoth, che non mi piace perché si ottiene risposta dalla collina e non dall'aria. Quello di sopra, più avanti di me, di quanto pensassi, non sembra che abbia molto cervello umano. Sparato al colli Jack di Elam Hutchins quando si è fatto sotto per mordermi e Elam dice che mi ucciderebbe se potesse. Non credo che lo farà. Diori notte il nonno mi ha fatto ripetere in continuazione la formula Do e io credo di aver visto la città intera ai due poli magnetici. Ci andrò quando la terra sarà ripulita, se non riesco ad aprirmi prima un varco con la formula di Donna. Quando l'avrò imparata. Quelli dell'aria mi hanno detto al Sabaoth che ci vorranno anni prima che possa ripulire la terra e immagino che per allora il nonno sarà morto. Così dovrò imparare tutti gli angoli dei piani e le formule tra l'ir e l'ngr. Quelli di fuori mi aiuteranno ma non possono prendere corpo senza sangue umano. Quello di sopra pare che abbia le caratteristiche adatte. Lo posso vedere un poco quando faccio il segno Vorish e ci soffio addosso la polvere Imgazi. D'è vicino come loro la vigilia di Calendimaggio sulla collina. L'altra faccia forse sparirà del tutto. Mi chiedo come sarò io quando la terra sarà stata ripulita. E su di essa non ci saranno più terrestri. Quello che venne con l'aclo del Sabaoth dice che potrei essere trasfigurato essendoci in me molto materiale esterno su cui lavorare. Il mattino trovò il dottor Hermitage in un bagno di sudore freddo in preda al terrore e a una frenetica concentrazione. Aveva passato la notte sul manoscritto seduto al tavolo sotto la luce elettrica voltando una pagina dopo l'altra con mani tremanti. Via via che decifrava il criptico testo. Aveva telefonato in fretta alla moglie che non sarebbe rincasato e quando lei gli portò la colazione da casa toccò appena il cibo. Continuò a leggere per tutto il giorno di quando in quando esasperato perché si rendeva necessaria una riapplicazione della complessa chiave. Assaggiò appena il pranzo e la cena che gli erano stati portati. Verso la metà della notte seguente si assopì per un po' sulla sedia per poi risvegliarsi di soprassalto da un viluppo di incubi altrettanto orribili delle verità e delle minacce all'esistenza dell'uomo che egli aveva scoperto. Il mattino del 4 settembre il professor Rice e il dottor Morgan insistettero per vederlo e se ne tornarono via tremanti e grigi come la cenere. Quella sera Hermitage andò a letto ma dormì solo a tratti. Il giorno seguente, mercoledì si rimise al lavoro sul manoscritto e cominciò a prendere molti appunti sia dalle parti già decifrate sia di quelle che già stava leggendo al momento. Nelle ore piccole di quella notte si appisolò nella comoda poltrona dell'ufficio ma prima dell'alba era nuovamente chino sul manoscritto. Poco prima di mezzogiorno il suo medico, dottor Hartwell passò a trovarlo e insistette perché si riposasse. Hermitage non ne volle sapere dichiarando che era di importanza vitale terminare la lettura del diario e promettendogli una spiegazione a tempo debito. Quella sera sul far del tramonto egli finì l'accurato esame del terribile manoscritto e si accasciò esausto. La moglie portandogli la cena lo trovò in condizioni semicomatose. Tuttavia era in sé quanto bastava per dissuaderla con un grido dal posare gli occhi sugli appunti che aveva preso. Alzandosi a fatica raccolse i fogli fitti di annotazioni e li chiuse in una grande busta che poi sigillò e infilò in una tasca della giacca. Gli era rimasta forza sufficiente per tornare a casa ma vi giunse in uno stato tale che la moglie chiamò subito il dottor Hartwell. Quando questi lo mise a letto egli riuscì a borbottare più volte soltanto «In nome di Dio, cosa possiamo fare?» Il dottor Armitage dormì ma il giorno dopo continuava a delirare. Non diede spiegazioni ad Hartwell ma nei momenti di lucidità disse che doveva vedere assolutamente Rice e Morgan. I suoi vaneggiamenti erano impressionanti specialmente quando supplicava in modo frenetico di distruggere qualcosa che era racchiuso in una fattoria sbarrata o alludeva a un fantastico piano per l'alientamento del genere umano e l'estirpamento di ogni forma di vita animale e vegetale da parte di una spaventosa, antica razza di esseri provenienti da un'altra dimensione. Urlava che il mondo era in pericolo perché le creature antiche intendevano distruggerlo precipitandolo fuori dal sistema solare e dal cosmo riconosciuto in un altro piano o fase di esistenza da cui era accaduto incalcolabili iere prima. Altre volte implorava che gli fossero dati il secrato Necronomicon e la demonolatria di Remigio nei quali sembrava fiducioso di trovare qualche formula che scongiurasse il pericolo incombente. Fermateli! Fermateli! gridava. Quei Watley volevano farli entrare! E il peggiore di tutti è rimasto! Dite a Rice e a Morgan che dobbiamo fare qualcosa! È un'impresa disperata, ma io so come preparare la polvere! Non è stato più nutrito dal 2 agosto quando Wilbur ha incontrato qui la sua fine. E di questo passo... Ma Armitage aveva un fisico robusto nonostante i suoi 73 anni e un'altra notte di sonno lo rimise in sesto senza che gli venisse la febbre. E svegliò tardi, venerdì ed è tutto lucido sebbene oppresso da una sorta di paura e da un tremendo senso di responsabilità. Sabato pomeriggio si sentì abbastanza in forza per andare in biblioteca a convocarvi Rice e Morgan. I tre uomini trascorsero quindi il resto della giornata e la sera lambicandosi il cervello con pazzesche speculazioni e disperate discussioni. Strani e terribili volumi furono prelevati dagli scaffali traboccanti e da segreti ripostigli chiusi a chiave. Formule e diagrammi furono ricopiati con fretta febbrile e in sconcertante abbondanza. Nei tre uomini non c'era ombra di scetticismo. Avevano visto il corpo di Wilbur Watley sul pavimento di una stanza di quello stesso edificio e nessuno di loro si sentiva minimamente incline a considerare il diario come i vaneggiamenti di un pazzo. Si discusse sull'opportunità o meno di avvisare la polizia di stato del Massachusetts ma alla fine prevalse l'opinione contraria. Dati i molti aspetti incredibili della storia per chi non fosse stato testimone di certi fatti. E questa opinione fu confermata durante le indagini successive. A tarda notte la riunione si sciolse senza che fosse stato messo a punto un piano definitivo. Ma Armitage trascorse l'intera giornata di domenica confrontando formule e mescolando sostanze chimiche ottenute dal laboratorio dell'università. Più rifletteva sull'infernale diario più era incline a dubitare dell'efficacia di qualsiasi agente materiale impiegato per distruggere l'entità che Wilbur Watley si era lasciato dietro. L'entità che minacciava la Terra era e che senza che lui lo sapesse si sarebbe scatenata di lì a poche ore per diventare appunto l'orrore di Dunwich. Il dottor Armitage trascorse lunedì come la domenica perché l'impresa cui si stava accingendo richiedeva un'infinità di ricerche ed esperimenti. Ulteriori consultazioni del mostruoso diario lo costrinsero ad apportare delle modifiche al suo piano. Ma lui sapeva che fino all'ultimo i risultati sarebbero stati incerti. Il giorno dopo martedì aveva abboggiato una linea di azione abbastanza precisa che includeva un viaggio a Dunwich da effettuarsi entro una settimana. Poi mercoledì la situazione precipitò. Relegato in un angolo dell'Arkham Advertiser un ironico trafiletto dell'Associated Press raccontava quale mostro portentoso fosse stato generato a Dunwich dal whisky di contrabbando. Armitage sbigottito non poteva che telefonare a Rice e Morgan. Discussero fino a notte tarda e trascorsero il giorno seguente in preparativi frenetici. Armitage sapeva che avrebbe dovuto interferire con forze terribili ma si rendeva conto che non c'era altro modo di annullare l'interferenza ben più grande e maligna che qualcuno aveva sguinzagliato. Venerdì mattina Armitage Rice e Morgan partirono in automobile diretti a Dunwich e arrivarono al villaggio verso l'una del pomeriggio. Era una bella giornata ma perfino nello splendore lucente del sole sulle misteriose colline a cupola e sulle forme ombrose e profonde della campagna sgomenta pareva alleggiare qualcosa di sinistro e portentoso. Qua e là sulle scabre sommità si poteva scorcere un desolato cerchio di massi stagliato contro il cielo. Dall'atmosfera di terrore e il silenzio che regnava allo spaccio di Osborne capirono che doveva essere successo qualcosa di orribile e presto furono informati dell'annientamento di Elmer Fry e della sua famiglia. Per tutto il pomeriggio percorsero in automobili il circondario di Dunwich interrogando la gente del posto sull'accaduto e ispezionando essi stessi con orrore crescente i desolati resti della fattoria Fry. Le tracce residue della sostanza viscosa che sembrava catrame le blasfeme impronte nell'aia gli armenti feriti di Seth Bishop e gli enormi solchi di vegetazione stritolata nei paraggi. La scia che saliva e scendeva da Sentinel Hill parve a chiudere agli occhi di Hermitage un significato quasi catastrofico ed egli contemplò a lungo il sinistro macigno simile a un altare sulla cima della collina. Alla fine dopo aver saputo dell'arrivo di una squadra della polizia di stato giunta ad Halsbury quel mattino in seguito alle prime notizie telefoniche sulla tragedia dei Fry i tre uomini decisero di andare in cerca dei funzionari per raffrontare se possibile i rispettivi appunti. Più facile a dirsi che a farsi perché non trovarono traccia dei poliziotti in nessun posto. Erano venuti in cinque in automobile ma adesso la vettura vuota era parcheggiata vicino ai resti della fattoria dell'aglia dei Fry la gente dei paraggi tutti avevano parlato con i poliziotti sembrò da prima perplessa quanto Armitage i suoi colleghi poi il vecchio Sam Hutchings pensò a qualcosa e impallidì dando di gomito a Fred Farr indicando l'umida e profonda forra che si apriva poco lontano Mio Dio balbettò gliel'avevo detto di non andare nel ballone pensavo che con quelle impronte bene in vista nessuno avesse il fegato di scendere di sotto e poi la puzza ma già senza contare i caprimulghi che strillano tutto il tempo nell'ombra i paesani rabbrividirono come pure i tre forestieri e tutti gli orecchi si tesero istintivamente e inconsciamente ad ascoltare Armitage adesso che si era imbattuto nell'orrore e nelle sue nefaste opere tremò sotto il peso della responsabilità cui sapeva di non potersi sottrarre presto sarebbe scesa la notte ed era proprio allora che il colossale abominio avrebbe ripreso il suo goffo rumoroso e soprannaturale cammino negozium preambulans in tenebris il vecchio bibliotecario ripete mentalmente la formula che aveva memorizzato e strinse convulsamente il foglio sul quale aveva scritto quella sostitutiva che non aveva avuto il tempo di mandare a memoria controllò che la torcia elettrica funzionasse perfettamente Rice dietro di lui tirò fuori da una valigia uno spruzzatore metallico del tipo di quelli usati comunemente contro gli insetti mentre Morgan teneva dalla custodia il fucile da caccia grossa nel quale confidava sebbene i suoi compagni lo avessero avvertito che nessun'arma materiale sarebbe servita a qualcosa in quella circostanza Armitage che aveva letto l'abnorme diario sapeva dolorosamente che genere di manifestazione ci fosse da aspettarsi ma non volle spaventare ulteriormente la gente di Dunwich già sgomenta con accenni intempestivi sperava di poterne avere ragione senza che il mondo venisse a conoscenza dell'abominazione cui era sfuggito quando si addensarono le ombre della sera i contadini cominciarono a far ritorno alle fattorie ansiosi di bardicarvisi a dispetto della tragica evidenza che tutte le serature e i catenacci di questo mondo non avrebbero potuto fermare una forza che a suo piacimento schiantava alberi e stritolava case scossero la testa quando seppero che i tre forestieri intendevano vigilare tutta la notte presso le rovine della fattoria Fry così pericolosamente vicine al vallone e quando se ne andarono nutrivano in cuor loro scarse speranze di rivederli quella notte si udirono cupi rimbombi sotto le colline e i caprimulghi cantarono minacciosamente ogni tanto una raffica di vento soffiando dalla rada di Cold Spring portava una zaffata di fetore che rendeva ancora più opprimente l'afa notturna e che le tre sentinelle avevano già sentito prima d'allora quando avevano assistito all'agonia della cosa che per 15 anni si era fatta passare per un essere umano ma l'orrore che intendevano affrontare non apparve qualsiasi cosa fosse in agguato nelle buie profondità del vallone aspettava un'occasione più propizia e Armitage disse ai suoi colleghi che sarebbe stato un suicidio cercare di stanarla al buio albeggiò e i rumori notturni cessarono era una giornata grigia e uggiosa piovigginava e nuvole sempre più pesanti andavano addensandosi oltre le colline a nord ovest gli uomini venuti da Arkham erano indecisi sul da farsi sotto una rimessa rimasta miracolosamente in piedi nell'aia dei frai e qui discussero se fosse più saggio aspettare o prendere l'iniziativa scendendo nella forra in cerca dell'abominevole preda senza nome l'acquazzone crebbe d'intensità e dai lontani orizzonti sudirono i primi rimbombi del tuono il cielo risplendeva di lampi e una setta biforcuta valenò nei paraggi come se fosse caduta nella stessa forra maledetta le nubi avevano completamente oscurato il cielo e i tre uomini sperarono che il temporale fosse di breve durata e che tornasse presto il sereno ma era ancora molto buio quando circa un'ora dopo una confusa babele di voci risuonò in fondo alla strada qualche istante dopo scorsero una dozzina di uomini spaventati che correvano gridando e piangendo istericamente qualcuno in testa al gruppo cominciò a singhiozzare delle parole e gli uomini di Arkham sobbalzarono violentemente quando i gemiti divendero frasi compiute oh mio dio oh mio dio ansimò la voce è uscito un'altra volta in pieno giorno è fuori è fuori ora sta muovendosi solo il signore sa quando piomberà su tutti noi circa circa un'ora fa Zeb Watley ha sentito il telefono suonare era la signora Corey moglie di George che abita laggiù all'incrocio gli ha detto che il giovane Luther era fuori per radunare le vacche e metterle al riparo dopo il grande fiume quando ha visto tutti gli alberi piegarsi sull'imboccatura del vallone dalla parte opposta a questa e ha sentito una puzza tremenda come quella che aveva sentito l'altro lunedì mattina quando aveva trovato le impronte sempre a secondo la signora Corey Luther ha sentito come un rumore di onde ma non era quello che fanno normalmente gli alberi e i cespulli piegati poi a un tratto gli alberi lungo la strada hanno cominciato a essere spinti da una parte e si è sentito un passo pesante spaventoso e il rumore di qualcosa che sbozzava nel fango sembrava così ma badate Luther non ha visto proprio niente solo alberi e cespulli piegati poi dove il rio dei bishop passa sotto la strada il ragazzo ha sentito un tremendo cigolio e una vibrazione del ponte come se il legno cominciasse a rompersi o spaccarsi e per tutto il tempo non ha visto niente solo alberi e cespulli che si piegavano e quando il rumore di onde si è allontanato spostandosi verso la strada la fattoria del mago Watley e Sentinel Hill Luther ha avuto il fegato di andare fin lì dove aveva sentito i rumori e ha controllato il terreno era tutto fango e acqua il cielo nero e la pioggia cancellano le tracce molto alla svelta ma partendo dall'imboccatura del vallone dove gli alberi erano stati rimossi c'erano impronte enormi grandi come barili e sul tipo di quelle che aveva visto lunedì ma non è quello il guaio anzi è solo il principio Zeb aveva telefonato alla gente nel circondario e tutti lo ascoltavamo quando si è inserita una chiamata dalla casa di Seth Bishop la serva di Seth Sally pensava che ormai fosse arrivata la sua ora e si è messa a gridare e vedeva gli alberi piegarsi lungo la strada e sentiva una specie di suono molle come un elefante che calpestasse il sentiero vicino alla fattoria e andasse a sbatterci contro poi ha sentito un puzzo tremendo e il suo ragazzo Jansi si è messo a gridare che era uguale a quello che aveva avvertito vicino alla fattoria a Watley lunedì mattina e i cani abbaiavano pieni di paura a questo punto Sally ha gettato un urlo tremendo e ha detto che la baracca sul sentiero era crollata come se il temporale ci avesse soffiato sopra solo che il vento non era tanto forte tutti stavano ad ascoltare la gente al telefono aveva l'affanno per l'emozione a un tratto Sally ha gridato di nuovo dicendo che il recinto di legno dell'aia stava crollando ma non riusciva a capire quale poteva essere la causa del disastro poi tutti quelli che ascoltavano al telefono hanno sentito Jansi e il vecchio Seth Bishop urlare e anche Sally si è messa a gridare che qualcosa di gigantesco aveva colpito la casa non era una setta o qualcosa del genere ma un corpo grande e solido che continuava a picchiare contro la facciata e ancora e ancora dalle finestre però si vedeva niente e dopo e dopo rughe di terrore sulcavano i volti dei presenti e Armitage sconvolto com'era ebbe la prontezza di spirito di invitare l'uomo a continuare Sally ha gridato forte aiuto la casa crolla al telefono abbiamo sentito uno schianto spaventevole e tutti che gridavano come quando fu presa la fattoria di Elmer Fry solo che l'uomo tacque sopraffatto dall'emozione e un altro proseguì questo è quanto dopo al telefono non un rumore non un grido più niente tutto muto siccome l'intera comunità aveva sentito abbiamo tirato fuori le Ford i carri e ci siamo riuniti alla fattoria Cori c'erano tutti gli uomini disponibili e insieme siamo venuti a vedere che intenzioni avevate voi forestieri ma io penso che questo è il giudizio del signore per i nostri peccati e che nessuno si può salvare dobbiamo seguirlo ragazzi Armitage si sforzò di dare alla propria voce un tono rassicurante credo che ci sia un modo per metterlo fuori combattimento voi uomini sapete che quei Watley erano dei maghi beh abbiamo a che fare con una cosa stregata e dobbiamo affrontarla con gli stessi sistemi ho visto il diario di Wilbur Watley e ho letto qualcuno dei misteriosi libri che era solito consultare penso quindi di conoscere l'incantesimo giusto da recitare per distruggere quella cosa naturalmente non posso esserne sicuro al cento per cento ma possiamo sempre provarci la cosa è invisibile sapevo che lo sarebbe stata ma in questo spruzzatore a getto lungo c'è una polvere che dovrebbe renderla visibile per un secondo più tardi la proveremo che è una simile cosa viva e spaventoso ma credete non è tanto cattiva come sarebbe diventata se Wilbur fosse vissuto più a lungo non saprete mai cosa ha rischiato il mondo ora abbiamo da combattere solo quest'unica cosa perché non può moltiplicarsi può tuttavia nuocerci molto e dunque non dobbiamo esitare a sbarazzarcene liberando la comunità da essa dopo una pausa Armitage proseguì dobbiamo seguirla e la prima cosa da fare è recarsi sul posto che ha appena devastato qualcuno mi indichi il cammino non conosco bene le vostre strade ma immagino che vi sia una scorciatoia fra i campi che mi dite gli uomini esitarono per qualche istante poi Earl Sawyer parlò con voce roca indicando con un dito nodoso un punto lontano sotto la pioggia penso che la via più svelta per arrivare alla fattoria di Seth Bishop sia tagliare per il prato basso laggiù guardando il rio nel punto meno profondo e risalendo il campo falciato di carriere e il terreno boschivo da lì si finisce sulla parte alta della strada vicino alla fattoria di Seth o poco più avanti Armitage Rice e Morgan si incamminarono nella direzione indicata e diversi contadini quasi tutto il gruppo li seguirono il cielo si stava schiarendo e pareva che il temporale dovesse allontanarsi quando Armitage inavvertitamente prese una direzione sbagliata Joe Osborne lo avvertì e si mise risolutamente in testa alla comitiva la gente stava ritrovando fiducia e coraggio sebbene la penombra della collina boscosa e quasi a picco verso la fine della scorciatoia li costringesse a una specie di scalata fra antichi alberi grotteschi e mettesse a dura prova la loro buona volontà finalmente sbucarono su una strada fangosa e il sole uscì dalle nubi quasi nello stesso momento si trovavano un po' oltre la fattoria di Seth Bishop ma gli alberi schiantati e le abominevoli impronte lasciavano capire cosa fosse passato di lì pochi minuti furono sufficienti per esaminare le rovine che trovarono subito dopo la curva della strada si era ripetuto il caso dei frai e non fu trovato niente di vivo o di morto fra le pareti crollate e le travi di belte che erano state la casa e la stalla dei Bishop nessuno volle fermarsi più del necessario sul posto dove alleggiava un tanfo orribile e la fetida sostanza catramosa ne copriva le rovine ma tutti istintivamente si volsero osservare la mostruosa serie di impronte che andavano in direzione della distrutta fattoria Watley e verso gli ertipendii di Sentinel Hill incornata dal masso a forma di altare quando gli uomini passarono davanti ai resti della fattoria di Wilbur Watley rabbrividirono e ancora una volta esitarono non era uno scherzo dare la caccia a una cosa grande come una casa e per di più invisibile e che aveva la perversa malvagità di un demone sulle pendici di Sentinel Hill le tracce si allontanavano dalla strada ed essi notarono un nuovo enorme solco di vegetazione abbattuta e stritolata accanto alla vecchia scia che indicava il precedente tragitto del mostro su e giù per la collina Armitage tirò fuori un potente binocolo e scrutò gli ertipendii della verde collina poi lo porse a Morgan che aveva la vista più acuta dopo aver guardato per qualche istante Morgan gettò un grido e passò il binocolo a Earl Sawyer indicando un certo tratto del pendio Sawyer goffo come tutti coloro che non sono avvezzi all'uso di uno strumento ottico trafficò un po' finché riuscì a mettere a fuoco le lenti con l'aiuto di Armitage quando vide bene gridò più forte di Morgan Dio onnipotente l'erba e i cespugli si muovono sta salendo lentamente sta strisciando è in cima adesso solo Dio sa farci cosa il panico si diffuse di nuovo fra gli astanti un conto era dare la caccia all'entità senza nome un altro trovarla d'accordo le formule magiche potevano funzionare ma in caso contrario cosa avrebbe fatto voci esitanti cominciarono a interrogare Armitage riguardo a ciò che sapeva del mostro e nessuna risposta parve soddisfarli gli uomini si sentivano troppo vicini ad aspetti della natura e dell'essere assolutamente proibiti e completamente al di fuori della comune esperienza della nostra specie andò a finire che i tre uomini venuti da Arkham l'anziano dottor Armitage dalla barba bianca il tarchiato professor Rice con i capelli grigi e lo snello e giovane dottor Morgan si espicarono da soli sulla ripida collina dopo aver pazientemente spiegato la messa a fuoco delle lenti e l'uso dello strumento lasciarono il binocolo al gruppo di contadini spaventati che rimase sulla strada e mentre salivano erano attentamente osservati da coloro che se ne servivano a turno era una china impervia e Armitage dovette essere aiutato più di una volta molto più sopra dello sparuto gruppo che arrancava faticosamente la grande scia ondeggiava piano come se il suo infernale artefice strisciasse con la lentezza di una lumaca ma era evidente che gli inseguitori stavano guadagnando terreno Curtis Watley del ramo non decaduto osservava con il binocolo quando i tre uomini sulla collina deviarono nettamente dalla scia che seguivano con circospezione comunicò alla gente assiepata intorno a lui che evidentemente stavano cercando di raggiungere un'altura secondaria che dominava il solco molto più avanti rispetto al punto dove gli arbusti venivano schiacciati in quel momento aveva ragione e il gruppetto fu visto guadagnare il poggio poco dopo che l'impossibile abominio lo aveva oltrepassato poi Wesley Corey che aveva strappato il binocolo a Curtis Watley gridò che Armitage stava mettendo a punto lo spruzzatore retto da rice e che di sicuro stava per succedere qualcosa i contadini si agitarono inquieti ricordando che lo spruzzatore avrebbe dovuto rendere visibile per un attimo il mostro sconosciuto due o tre uomini chiusero gli occhi ma Curtis Watley riprese il binocolo e ne aggiustò con precisione le lenti vide che Rice dall'altura elevata alle spalle dell'entità si era venuto a trovare in posizione ottimale per spruzzare la polvere portentosa l'effetto fu stupefacente quelli senza binocolo intravidero per un istante una nuvola grigia una nuvola dalle dimensioni di un edificio piuttosto grande sulla sommità della collina Curtis che aveva il binocolo lasciò cadere con un grido strozzato nel fango della strada che era alto fino alle caviglie barcollò e sarebbe caduto a terra se altri due o tre non l'avessero sorretto prontamente per un po' non fece che gemere sommessamente o gran dio quella cosa quella cosa fu immediatamente tempestato di domande e soltanto Harry Wheeler ebbe l'idea di raccogliere il binocolo e ripulirlo dal fango Curtis non commetteva più e anche brevi risposte smuzzicate sembravano troppo nelle sue condizioni farfugliava fuori di sé più grande della stalla tutto fatto di funi attorcigliate una cosa come un uovo di gallina però enorme con decine di gambe grosse come stantuffi che si ritirano fino a metà quando cammina non ha nulla di solido sempre ha fatto tutto di gelatina e di corde attorcigliate e attaccate una all'altra e dappertutto ci sono occhi spurgenti a dieci no venti bocche o proboscidi che gli pendono dai lati e sono grosse come tubi di stufa e si muovono tutte si aprono si agitano tutto grigio con anelli color blu o porpora oh mio dio e quella faccia che hai in cima quest'ultimo particolare di qualunque cosa si trattasse fu evidentemente troppo per il povero Curtis che svenne prima di poter aggiungere altro Fred Farr e Will Hutching lo portarono sul ciglio della strada e lo adagiarono sull'erba bagnata Harry Wheeler tremando puntò il binocolo sulla ripida collina egli distinse tre figurine che correvano a rotta di collo verso la cima della collina alla massima velocità consentita dall'erto pendio e null'altro poi tutti avvertirono uno strano suono fuori stagione nella forra profonda alle loro spalle e nel sottobosco della Sentinel Hill era il canto stridulo di migliaia di caprimulghi e in quel coro acuto alleggiava una nota maligna di attesa Earl Sawyer prese il binocolo e riferì che le tre figure lontane erano ritte sul crinale più alto allo stesso livello del masso a forma di altare ma a notevole distanza da quest'ultimo e disse che gli sembrava che uno dei tre alzasse le braccia sopra la testa e le riabbassasse ritmicamente e proprio in quel mentre gli altri credettero di udire un debole suono vagamente musicale come se un canto accompagnasse quei gesti doveva essere uno spettacolo grottesco e solenne l'immagine di quella fantastica sagoma profilata contro il cielo in cima alla collina solitaria ma nessuno sfervatore era in vena di apprezzamenti estetici forse sta facendo l'incantesimo bisbigliò Wheeler riprendendosi il binocolo i caprimulghi cantavano selvaggiamente e con il ritmo curiosamente regolare diverso da quello del rito improvvisamente la luce del sole sembrò impallidire senza che in cielo passasse una nube era un fenomeno molto singolare e tutti lo notarono un sordo brontolio salì dalle colline confondendosi stranamente con un rombo che proveniva dall'alto del cielo valenò un fulmine e gli attoniti spettatori cercarono in vano le avvisaglie del temporale mentre la cantilena degli uomini di Arkham era adesso chiaramente udibile e Wheeler vide con il binocolo che tutte e tre alzavano ritmicamente le braccia nell'incantesimo da qualche lontana fattoria giunse un frenetico abbaiare di cani il mutamento sopravvenuto nella luce solare andrò sempre più accentuandosi e gli uomini di Dunwich guardarono stupiti l'orizzonte un'oscurità violetta scaturita dal nulla più che uno spettrale incupirsi dell'azzurro del cielo si addensò sui sinistri brontolii delle colline il cielo fu illuminato da vividi lampi più lucenti di prima e i contadini credettero di vedere una specie di foschia tutto intorno al masso altare sulla cima distante nessuno d'altra parte usava il binocolo in quel momento i capri mulghi continuavano a strillare con ritmo irregolare e gli uomini di Dunwich cercavano di darsi vicendevolmente coraggio avvertendo un'imperdonabile minaccia nell'atmosfera catastrofica improvvisi giunsero i suoni profondi fessi cavernosi che avrebbero infestato per sempre i ricordi dell'attonito gruppo di persone che li udì lo scaturirono da gola umana perché gli organi dell'uomo non possono produrre simili perversioni acustiche ci sarebbe detto che salissero dall'inferno stesso ma indubbiamente la fonte di quella cacofonia era proprio la pietra a forma d'altare sulla cima della collina è quasi errato chiamarli suoni e il loro terrificante timbro ultrabasso parlava alle oscure sedi dell'inconscio e della paura molto più ricettive dell'orecchio e tuttavia somigliavano a una voce in quanto seppure oscuramente si condensavano in parole semiarticolate erano suoni forti potenti come i brontolii e i tuoni al di sopra dei quali riecheggiavano eppure non provenivano da un essere visibile e poiché l'immaginazione ne identificava l'ipotetica fonte nel mondo dell'invisibile gli uomini assepati ai piedi della collina si strinsero l'uno all'altro e indietreggiarono come chi si aspetta un colpo gracchiò l'abominevole vibrazione dallo spazio la bestiale cacofonia si affievolì come se fosse in atto una tremenda lotta psichica Henry Wheeler aguzzò la vista guardando col binocolo ma vide soltanto tre grottesche figure umane stagliarsi sulla sommità della collina che agitavano freneticamente le braccia in misteriosi gesti come se l'incantesimo stesse giungendo a termine da quali oscuri vortici di terrore abissale da quali insondate profondità di coscienza extracosmica e di tenebrosa ereditarietà latente erano scaturiti quei suoni rauchi e tonanti appena articolati e in quell'istante con rinnovata forza e coerenza esplosero di nuovo in un crescendo delirante totale definitivo poi tutto tacque i pallidi uomini sulla strada ancora sconvolti da quelle sillabe indiscutibilmente in inglese che erano rotolate tonando dal terribile spazio nei pressi dell'impressionante masso altare non le avrebbero udite mai più tutti subbalzarono violentemente allo scoppio terrificante che parve spaccare le colline rimbombo assordante e catastrofico la cui sorgente fosse in cielo o in terra nessuno fu in grado di individuare un fulmine solitario saettò dallo genit scarlatto scaricandosi sulla pietra altare e un'immensa ondata di forza invisibile ed indescrivibile fetore si rovesciò dalla collina sulla campagna alberi erba e arbusti furono spazzati con furia e gli uomini sulle pendici del colle terrorizzati e indeboliti dal lezzo mortale che quasi li asfissiò furono scaraventati a terra i cani urularono in lontananza l'erba e il verde fogliame avvizzirono assumendo una singolare colorazione giallo-grigiastra malata e sui campi e foreste caddero i corpi dei caprimulghi morti a migliaia il fetore si dissipò rapidamente ma la vegetazione non fu più la stessa ancora oggi c'è qualcosa di bizzarro e blasfemo nelle piante e negli arbusti che crescono attorno e sopra la terribile collina Curtis Watley stava riprendendo i sensi quando gli uomini di Arkham scesero lentamente dalla ripida altura nella luce del giorno fattasi di nuovo limpida e tersa erano gravi e silenziosi ma sembrava che in loro perdurasse il ricordo sconvolgente di cose ancor più orribili di quelle che avevano ridotto la gente di Danwich in uno stato di prostrazione e paura in risposta a un frenetico accavallarsi di domande si limitarono a scuotere la testa e a riconfermare un unico fatto fondamentale la cosa è sparita per sempre disse Armitage è stata scomposta in ciò che era in origine e non potrà esistere mai più era una presenza impossibile in un mondo normale solo una piccolissima frazione di essa era vera materia nel senso che noi diamo a questo termine era come suo padre e gran parte di ciò di cui era fatta è tornata a lui in qualche ignoto dominio o dimensione al di fuori dell'universo materiale qualche oscuro abisso da cui solo i riti più blasfemi avevano potuto richiamarla un istante sulle colline seguì un breve silenzio durante il quale il povero Curtis Watley riprese gradualmente i sensi e gemendo si toccò la testa poi il ricordo gli tornò là dove era stato interrotto dallo svenimento e l'orrore della visione che lo aveva prostrato lo devastò un'altra volta oh mio dio quella mezza faccia quella mezza faccia in cima alla cosa quella faccia con gli occhi rossi e i capelli d'albino e i ricci e senza mento come Watley era una specie di polipo dai millepiedi di ragno messi insieme ma in cima c'era una mezza faccia d'uomo e somigliava al mago Watley solo che era grande metri e metri si interruppe esausto mentre gli altri lo fissavano con uno stupore che non aveva ancora avuto il tempo di trasformarsi in nuova paura soltanto il vecchio Zebulon Watley che ricordava frammentariamente certe vecchie cose e che fino ad allora era rimasto in silenzio parlò a voce alta quindici anni fa boffonchiò sentì il vecchio Watley dire che un giorno avremmo sentito il figlio di Lavinia chiamare il nome di suo padre in cima a Sentinel Hill ma Joe Osborne lo interruppe per chiedere ancora agli uomini di Arkham ma cosa era insomma come fece il giovane mago Watley a chiamarla dal posto da dove è venuta Armitage rispose scegliendo con cura le parole era beh era soprattutto una forza che non appartiene al nostro spazio una forza che agisce cresce e si modella in base a leggi diverse da quelle della nostra natura non abbiamo nessun tornaconto a evocare simili cose dall'esterno solo persone molto malvagie e culti crudeli cercano di farlo c'era qualcosa di questa forza nello stesso Wilbur Watley quanto bastava per farne un demonio un mostro precoce a rendere la sua morte uno spettacolo terrificante io brucerò il suo maledetto diario e se voi altri sarete saggi farete saltare con la dinamite quella pietra altare lassù e abbatterete tutti i cerchi di pietre verticali sulle colline sono stati proprio quelli a richiamare gli esseri che tanto piacevano ai Watley esseri che stavano per entrare tangibilmente nel nostro mondo per spazzar via la razza umana e trascinare la terra in uno spazio senza nome per uno scopo senza nome quanto alla cosa che abbiamo appena rimandato indietro ebbene i Watley l'avevano allevata per assegnarle un ruolo spaventoso negli avvenimenti che stavano per succedere era cresciuta in fretta ed era diventata così grande per la stessa ragione per cui Wilbur era cresciuto tanto in fretta ma lo aveva superato perché in essa vi era una percentuale infinitamente maggiore di alienità ora non chiedetemi come abbia fatto Wilbur a evocarla dall'aria lui non l'ha chiamata era suo fratello gemello ma assomigliava al padre più di lui l'orrore di Dunwich estate 1928 2029 2130 2130 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.